Buonasera a tutti amici video spettatori e in particolar modo con la solita musica in fade in che accompagna lo palle mio Buonasera maestro Io non mi abituo a quest'opening Francesco È troppo figa, è bellissima Mamma mia che inizio di diretto ogni volta Che inizio di diretto ogni volta Buonasera a tutti ragazzi, buonasera a tutti Ok, ci siamo Sembra veramente passato poco eh Mamma mia, oppure troppo Comunque, capricciosamente troppo L'ultima coppia di live in particolare secondo me è stata a dir poco di bastante È stata una combinazione folle nella sua densità di cose dette vissute Perché anche la scorsa, la scorsa è stata perfetta Cioè tutto, tutto, tutto c'è stato E contemporaneamente non è mancato nulla Eh ma è un po' che c'è tutto Sì, è vero Secondo me è davvero un po' che c'è tutto Perché abbiamo la lore, il gameplay, momenti da giocatore Momenti da speculatore C'è veramente qualsiasi cosa Io non mi sono fatto mancare niente Non ci siamo fatti mancare niente La plot armor come ricorda la chat No ma esatto ci sono La cosa pazzesca che riesce ad esserci Interazione fra noi come videogiocatori e persone Noi come content creator Dark Souls con noi Noi con Dark Souls Il pubblico persino con i meme Cioè si scherza È vero Ci sono emozioni, c'è speculazione Che in realtà è un contenuto di una bellezza Specialmente fatto così Trascendentale E contemporaneamente Prosegui Non rimaniamo magari in uno di quegli episodi extra Che esistono in questi titoli In cui ok ragazzi Oggi Firelink Shrine No C'è stata tutta la catacomba di Carthus Ok Non hai ancora le risposte Ma Wolger è caduto Guarda Ti dico intanto che ringrazio al solito per la pioggia di regali Esatto Che arrivano all'inizio ogni volta Perfetto Grazie Grazie ragazzi Grazie di cuore del supporto Hypetrain e gioia Hai detto una cosa Della quale Secondo me è giusto parlare Perché non ne volevo parlare Ma me l'hai fatto venire in mente tu con questo commento E quindi Secondo me è importante Proprio questo piccolo inciso Da persona blind Sì A veterano Dark Souls 3 è bello perché non me ne frega un cazzo di avere le risposte Mi lascio Non nel senso che non mi interessi sapere Ma non avverto quel senso di insoddisfazione che invece era spesso presente in Dark Souls 2 Di rimanere affamato anche solo di un filo conduttore Ho capito E dimmi perché Sono curioso Perché Vengo sfamato con delle briciole Ma tanto bastano al momento Avverto che ogni volta Un mattoncino Viene aggiunto Al muro che piano piano Si sta costruendo davanti E mi sta facendo scoprire Che cosa ho esattamente davanti Quindi Ieri non ho saputo Chi è Sullivan Come è arrivato alla Valle Boreale Perché Aldrich c'è andato No? Se ti ricordi sono state le domande con le quali abbiamo aperto la scorsa live E non ho avuto risposta a nulla Di fatto Però Ho scoperto Che esisteva questo regno di Di Walnir Inteso come Del Conquistatore Walnir Ovvero Carthas Si Della quale Anzi del quale abbiamo visitato le catacombe E abbiamo scoperto che c'è la possibilità di vincolare un abisso E io Wow La carpisco a due mani questa informazione E speculeremo su di essa proprio in questo momento E' anche vero che Dark Souls 3 Comunque ti ha dato O comunque Attraverso questa sinergia Ti ha offerto A tempo Debito Con i suoi ritmi Le risposte Ah no no assolutamente Ti mette in una culla di curiosità e densità Di coerenza e concretezza Che noi in Blind Tra l'altro non abbiamo avuto come No Perché ti assicuro Che senza sapere cosa fosse la stagnazione Era molto stancante Tutto molto stancante E' vero E' vero Effettivamente senza la chiave di lettura della stagnazione Ma non solo la stagnazione Anche diverse Convergenza La convergenza La prendevi per quello che era Una sorta di retcon A cazzo di cane Vabbè Ha voluto Ha avuto quest'idea creativa E' un artista Finchè poi non ti accorgi Alla fine del gioco Che è reale immagino No ma anche quando Anche E' reale Ma il fatto che a un certo punto Nel gioco Le terre cominciano a muoversi Dici Vabbè E' un'idea creativa Lo rispetto Però Potevi anche semplicemente fare Avrei Guarda Tanti fan E su alcuni punti di vista Infantili Ma molto anche Giustamente critici Persino io A volte Senza sapere le informazioni Che adesso abbiamo Avrei preferito un compitino Perché Mi sembrava Che non stesse affrontando Gli argomenti importanti Quando in realtà Lo ha fatto In maniera Lo ha sempre fatto Per ora Per dove sono arrivato io E non mancava soltanto Il concetto di stagnazione Quindi la conseguenza Che ha portato alla convergenza E il perché esiste E il perché è così Ma anche Relazioni familiari Chi è padre di chi Chi ha figliato con chi I rapporti Priscilla Quindole In Velka Tutte queste cose Non esistevano Ed era un problema Anche se io Non ho le risposte chiave Che vorrei Quindi Perché Aldrich È tornato alla Valle Boreale Cos'è la Valle Boreale Come c'è arrivato Sullivan Quanti anni ha Sullivan adesso Esatto Perché divenne Il tuo pontefice Eccetera 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 Come dicevi tu Ho comunque Delle risposte Una è per esempio Ma allora Questo posto È sopra Isalith Ci avevamo già pensato Più volte Al fatto che Delle descrizioni Suggerissero Che Isalith Fosse In qualche modo Sepolta Sul fondo Di questo mondo Di questa Lothric Di qualunque cosa Si stia calpestando In questo momento Sì E ne abbiamo avuto La super conferma Senza Doverla interpretare Senza doverla speculare È chiaro Che quel lago Sia Isalith E Ecco perché ti dico Che non mi interessa Non aver avuto Le risposte madri Perché ne ho tante altre E Mi tengo questa fame Perché in realtà Non è tale Vengo saziato Da dei buonissimi Spuntini Ok In attesa di sapere Cose come Appunto Cos'è la valle boreale A chi spetta Il trono di Lothric E Chi ha suonato la campana Che fine ha fatto Sabaku II Mamma mia Quella domanda iniziale L'hai ancora in te Ah Figurati Meraviglioso Che tu l'abbia ancora in te No allora Se vuoi ci ritorno Beh Per me è sempre più palese Che manchi Il Lord of Cinder Di DS1 Ok O ha svegliato gli altri O si è svegliato anche lui Non ce l'hanno detto La domanda La domanda è lecita Come è possibile Che dinanzi A tutta questa concretezza Manchi Un tassello Così fondamentale Non può essere stato Dato per scontato No infatti Il gameplay non è il gameplay È il finale di Dark Souls Ma poi Scusami perdonami Ma quanto cazzo sarà caldo Sì Sabaku II a due chilometri da te Cioè C'è un Sabaku caldo Vicino a casa tua Esatto Capito Sì Sabaku II È stato letteralmente Il primo non morto A vincolare dopo Gwyn Sì È super caldo È Non fa È andato a riposare È andato Inteso proprio come Nella gloria In un mondo che Era ancora molto caldo E quindi Non è possibile Che non si sia svegliato O si è svegliato E non ce lo dicono Perché ovviamente Vogliono lasciarcela Come sorpresa O è lui che ha svegliato Gli altri Come ti ricordi Supposi Ormai quasi un mese fa Non scappo Da queste due opzioni Guarda Su questo argomento Io sono sempre qui A giocar Stuzzicar E mettere qualche Piccolo indizio Fossa anche di Foreshadow Ma stavolta no Aspetto It is not the time Nor the place Fai no comment Qui faccio no comment E ne riparliamo In futuro Allora io Non so dirvi se ovviamente Lo troveremo L'avatar del giocatore Ok Questo Non mi spingo a tanto Beh è una cosa molto Cioè Sì capisco Che tu non lo faccia Perché è un po' Capito Che fai Quanto meta Quanto vuoi andare meta Sì Sì e poi Nel senso Non è mass effect È un po' Certo Come lo potresti interpretare Però sì Ti lascio Però ho capito Citato In un anello In un luogo Magari Un NFC No Però Cioè ovviamente Me lo auguro Mi auguro Che si arrivi A una rappresentazione Fisica Tangibile Del vincolatore Del primo vincolatore Però Allora Secondo me Sì rispondo a Mr. Flangan Per me la scelta ufficiale In questo gioco Cioè visto questo gioco È palesemente quella del vincolo Firenze Lo sto interpretando Ora vi faccio volentieri Anche questo discorso Che in realtà è dentro di me Ma non ho mai avuto occasione Di esplicitarlo Firenze Per me è solo La rappresentazione Di una scelta Aspetta Non resisto Devo Devo toglierti la parola Sappi che parleremo Di Firenze Stanotte Ma che caso Stai dicendo Promesso Come parleremo Di Firenze Prego prego Prosegui No non potevo non dirlo Io ho qui del room Lo sto sorseggiando Con gran godo Ma che cazzo dici? Tempo il tempo Stanotte Mamma mia Mi spoglio Allora Se non fossi già nudo Qua sotto Dicevo Mi hai rincoglionito Questa cosa di Firenze Allora Non mi aspetto Che venga rappresentato Fisicamente Ma credo che Firenze Al contrario Non debba esserlo Perché Firenze È una scelta Firenze Non è qualcosa Che cambia Il mondo Di Dark Souls 1 Firenze Non vincola Ma visto E considerato Che In Dark Souls 3 I vincolatori Diventano qualcosa Di molto comune Vorrei darvi La mia interpretazione finale Entrambi sono canonici Esistono sia Sabaku II Che Firenze Se solo Li slittiamo Di qualche tempo Bravissimo Firenze Va lì davanti E se ne fotte E poi però Qualcun altro Vincola E poi Un botto di gente Comincia a vincolare Non c'è una scelta canonica Ora so già dare questa risposta Se vuoi Ti posso suggerire una cosa E ovviamente Non è una cosa spontanea Di adesso È un po' che ci penso Ma posso Suggerirti un dettaglio Che poi ti approfondirò E questo non si può fare adesso Ma È nelle tue mani Non è nulla Che non riguardi Il tuo gusto Però posso suggerirti questo Senti Hai ragione Perfetta Non tanto speculazione Quanto ormai Deduzione Certezza Esattamente Senti ma Cosa ne pensi In questo Head canon Che poi tanto Head Alla fine Non è Di canonizzare Per Firenze Ma è una tua scelta Non è nulla da maestro È una cosa che sicuramente Secondo me valorizza Ma è una tua decisione Perfetto Senti ma La scelta di Firenze No Non potrebbe essere stata Visto che poi lui Ovviamente È sopravvissuto E ha proseguito Nel tempo Non potrebbe essere stato Uno Dei Primi O il primo A iniziare Bravissimo A dare Non tanto La Chiesa Nera Quanto Chi l'ha ispirata Te lo dissi già Te lo ricordi Eh ok Te l'ho già detto Durante queste puntate La Chiesa Nera Se c'è un fondatore Potrebbe essere Esatto Esatto Bravo Esatto E non credo che Firenze Sia il fondatore Della Chiesa Nera Ma credo che Firenze Sia Un'onda d'urto Esattamente No 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 C'è proprio Il vincolatore Che non vincolò Per me esiste Il mito Di colui Che arrivò lì E disse Fuck this Shit Esatto E per loro è un grande Perché ha evitato Di violentare la natura Inteso come la natura Che vuole che il fuoco Si spenga E quindi Vogliamo caronicizzare Di più Ovviamente sto per inventarmi Qualcosa che non può essere Propriamente vero Però mi piace immaginarlo Mi piace immaginare che Se alzo un po' Il volume di sottofondo Magari puoi farlo anche tu E far sentire di più La title music Per solleticare Il palle Dei nostri Spettatori Possiamo immaginare Che Oltre la porta Del ricettacolo Firenze E Sabaku Secondo Si sono scontrati Firenze Trafigge Il maestro Corre verso Gwyn Lo sconfigge E poi Abbandona Questo luogo Ma forse Da qualche parte Un rintocco Di una campana Suona E Sabaku Secondo Comunque si sveglia Si sveglia E non capisce Perché è ancora vivo Però non c'è più Firenze E quindi Si trasporta Ferito E va a vincolare Effettivamente Cioè io me la immagino Così adesso Sabaku Secondo Viene sconfitto Ma Si risveglia E pensa comunque Di aver vinto Immaginatelo come il risveglio Di Samus In Metroid Dread All'inizio Ma certo Ma certo Cioè Sabaku Secondo Si sveglia Firenze Non c'è più Il Falò è ancora lì E lui Crede Come credevo io Perché Sabaku Secondo Sei comunque un po' Tu in blind La prima volta Crede che quella sia L'unica Volta in cui si dovrà vincolare Sabaku Secondo Crede che Boh Firenze Si è aperito forse Nel cammino Verso la fornace Quindi Va a vincolarsi Pensando Che finisca lì Ovviamente non lo fa Però Sabaku crede Di aver sconfitto Firenze O comunque di aver sventato L'oscurità E Firenze A sua volta Invece crede Di aver Destinato Questo mondo Al buio E quindi è figo Perché credo che Entrambi I nostri personaggi Esattamente come Tutti i giocatori In blind Di Dark Souls 1 Hanno pensato Che finisse lì Miyazaki ha pensato Che finisse lì Certo Mi piace Canonicizzare questa cosa Come per l'autore Era già finita Quella storia Anche per i personaggi Che hanno vissuto Quella storia Tutto doveva Consumarsi In quel momento E questo è il motivo Per il quale Ha senso pensare Che la chiesa nera Si sia ispirata a Firenze Perché Firenze Non poteva fondare Una chiesa nera In quanto non credeva Ce ne fosse bisogno Gli altri però sì Lo sanno Che ce n'è bisogno Perché sono andati avanti Tanto 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 tempo dopo Sabaku II Non sapeva Che sarebbe divenuto Uno dei Lord of Cinder Credo che non Fosse neanche cosciente Di divenire Un Lord of Cinder No certo Il concetto stesso Di Lord of Cinder In origine Non era assolutamente Esistente Capito E doveva finire lì Vincolo Non vincolo Vincolo A posto Risolto il problema Del mondo Sì Invece no È solo l'inizio Di una grande Dannazione più grande Che se vogliamo Insomma Firenze Voleva evitare Esatto Quindi mi sento Di dire questa cosa Firenze aveva ragione Per ora Per ora Io sono D'accordo Con Firenze O meglio Aveva ragione Sempre con Il lecito Contraltare Del fatto Che la civiltà È prosperata Grazie a una scelta Diversa Ma a che prezzo Eh Esatto Certo Premesso che Non possiamo evitare Che l'uomo Sia cattivo E che Oldrich Esisterebbe Anche in un mondo Differente Perché le merde Nascono Per me Firenze Aveva ragione Che bella intro Che sta venendo fuori Non mi aspettavo Di fare questa introduzione Ma let's go Let's go Let's fucking go Perché sono veramente Gasato Mi trovo ancora D'accordo Con la scelta di Firenze Che è La mia scelta Anche da giocatore La scelta di Saidonia E la scelta di Francesco Forse più di Francesco Che di Saidonia È proprio la scelta Mia Se io stessi Scrivendo questa storia Oltre che giocarla Per me Ha ragione Chi vuole Passare al mondo Successivo Perché questo È evidente Che non stia in piedi E la puoi anche Attaccare con gli sputi Una Torre rotta Però continuerà A franare Sempre peggio di prima E chiunque Proverà A risedere In una Torre Attaccata Con lo sputo Continuerà a cadere A farsi male Fino a morire Sempre in modi peggiori Sì È così Si sta continuando A accanirsi Terapeuticamente Su un mondo Che è morto Ma è assolutamente Accanimento terapeutico Anzi ormai Problematico E David Quaglia Fa una domanda giusta Secondo me E se non ci fosse Un mondo successivo Va bene così comunque Anche se non ci fosse Allora bisogna Staccare la spina Fine È accanimento Appunto Non credo che Firenzo Stacchi la spina Necessariamente Per Il mondo Che verrà Se lo augura Semplicemente Perché è una visione Poetica e filosofica Interessante Sperare che ci sia Un dopo Ma magari non c'è niente E va bene così Se non c'è niente Vuol dire che Dio Se esiste Il vero Dio Ha previsto Che la vita Intesa In un senso Propriamente terreno Fosse solo una parentesi Tra l'accensione E lo spegnimento Della fiamma E tutto quello che c'è dopo È quello che ci doveva essere E questo mondo è finito E non deve aggrapparsi Tanto quanto si aggrappava In maniera imbarazzante Ed eccoci qui Al nostro collegamento Walnir Eh Il nostro mondo In questo momento È Walnir Che si aggrappa Un grande signore Grande conquistatore Che gattona Come un neonato Pur di non sprofondare Quindi Sì A Firenze E anche a Francesco Non interessava Il nuovo mondo Mi interessa solo Non perseverare Con questo Che è marcio E sta solo Generando più sofferenza Anche se Chi lo preserva Non se ne rende conto Ancora una volta Qui invece Coincido con F I Crestfallen Soprattutto il Crestfallen Del terzo Dark Souls Vedono più lucidamente Di tutti Il Crestfallen Non hanno paura Soprattutto ripeto Quello del 3 Il Crestfallen Non ha paura Di esternare Il senso di impotenza Che dovrebbe pervadere Qualunque essere vivente In un mondo Come questo Qualunque altro Essere vivente Non avverta Questo senso Di impotenza E impotenza Essacente È un borioso Che crede Di poter governare Attraverso L'atto del vincolo Le leggi della natura Che però Gli sono Per forza E per definizione Superiore E qui ovviamente Unisco la mia Visione della storia Alla storia Ma credo L'abbia fatto anche tu Ma è qualcosa Che si fa Sempre in maniera Diciamo Distinguibile Da quello che poi è L'analisi Più concreta Di un'interpretazione Tra virgolette Oggettiva Però si 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 È ovvio È importantissimo Esserci Io ti faccio una domanda E tu puoi anche Non rispondermi Ok Se non lo ritieni opportuno Tu arrivato in questo momento Dimmi Eri un vincolatore O no Oh Eri convinto Della scelta fatta Arrivato a Walnir Allora Visto tutto quello Che ho visto io C'è un dettaglio Di Walnir Che ti divertirà molto Quando scoprirai E discuteremo La sua storia Quello Che io ero Qui Blind A questo punto Della storia Diciamo Che Con le informazioni All'epoca Era Un pensiero Sul fatto Che Il vincolo Avrebbe risolto Anche la convergenza Ok Quindi tu Eri ancora Un vincolatore Si 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 È bellissima Questa cosa Esatto Mi dà i brividini Mi piace pensare Che siamo su strade opposte È bellissimo infatti Tu credevi quindi Di poter salvare il mondo Credevi che Il logos L'ingegno Potesse superare Il problema naturale Creato comunque Da una innaturalità Ovvero Sì avevo Avevo ancora in testa Lato di Gwyn Qualcosa che io in realtà Ti ho Anche molto Forzatamente Rimosso Come possibilità Ai tempi di Dark Souls 1 Io ancora oggi Durante la mia blind run All'epoca Avevo seri dubbi Della buona volontà di Kat O della sua sincerità È ovvio Io non credo neanche Che Kat sia sincero O meno Cioè non mi faccio Questa domanda Credo che qualunque cosa Sarebbe meglio di questa Anche se il mondo di Kat Dovesse essere un mondo Nel quale i peni volano Mi andrebbe bene Sì 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 Meglio comunque Di quello che vedo Della confusione Proprio Fisica Che genera questo mondo È È È un mosaico disordinato E Spiacevole Quello che abbiamo davanti Un utente scrive Non sono d'accordo Mantenere una mentalità positiva In un ambiente degradato E degradante Non vuol dire per forza Essere saccente Secondo me hai assolutamente ragione Nel senso che Può esistere anche Questo punto di vista Ma Non possiamo essere d'accordo Queste sono due idee Antitetiche E in quanto tali Non possono che scontrarsi E mai armonizzarsi Guarda che questa introduzione Con ciò che incontrerai in futuro Invecchierà Come il vino Cioè Neanche io sono d'accordo con te E ti dico Dopo tutto questo tempo Hai ragione All'inizio si può anche essere positivi Ma come puoi E esserlo Arrivato a Dark Souls 3 Sono passati migliaia di anni Ed è solo andato tutto peggio Se Firenze avesse avuto Il potere di staccare la spina Allora ci saremmo risparmiati Tutto questo Che cosa ha portato Quindi Non ha portato a niente Tutto questo Solo a disturbare di nuovo Chi si era già dato fuoco Magari ti mancano Esatto Ti mancano delle informazioni Sicuro Però secondo te La Chiesa Nera Sono comunque Per quanto apparentemente A livello estetico Sembrerebbero il contrario I buoni Scoprire di più Su Yuria Ioel E i pellegrini Che i casi erano O lo spegnimento O magari un eco Della terza via Mai trovata Sì 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 È possibile Secondo me Allora Secondo me in realtà Il termine è sbagliato Spero che Miyazaki Sì Tra le tante idee superate Di Dark Souls 2 Non abbia anche sorpassato In accelerazione Aldia e la terza via Non intendo il personaggio di Aldia No no certo Intendo il concetto di terza via Per me è molto importante Il concetto di terza via Anche per me lo era Sì sì Ed è Nella visione Yin-Yang giapponese Il pallino bianco nel nero E il pallino nero nel bianco Non è tutto O bianco o nero C'è anche una sfumatura C'è anche un Una zona di mezzo Un intercapedine La terza via era l'intercapedine Spero che non si sia smarrita Però ovviamente Non posso sapere Se sarà così O se invece Miyazaki aveva sempre in mente Ha sempre avuto in mente Una lotta fra poli opposti E non c'era Ah certo Spazio per questo Per questa terza corsia Spero che non l'abbia abbandonata Però il fatto che Anche fosse Non ti dico se è Ma anche fosse Il pensiero che qualcuno All'interno di questo universo Potesse non accettarlo È lecito Sì sì Anche per la scrittura Sì sì assolutamente Quindi prima di passare Al calice Chiudo dicendovi Che non sento il bisogno Di trovare Firenzo Ma avverto il bisogno Di trovare Sabaku Ok ok Questa cosa è bellissima Non sospetti quanto Non perché Tu troverai qualcosa Ma perché In ogni caso Offrirà Un bel sequel Alla nostra discussione È che Sabaku Secondo Ha influenzato Il mondo Molto più di quanto Non l'abbia fatto Firenzo Quindi è giusto Che lui ci sia In questo cammino Perché è stato È stata la fonte Di un fiume Del quale ancora oggi Vediamo la corrente Firenzo ha Dato origine Probabilmente Indirettamente La chiesa nera Ma è una minoranza Il mondo La maggior parte Del mondo senziente Viaggia in direzione Vincolo E quindi Mi sorprenderebbe Non trovare Sabaku Sabaku secondo È tutto Del resto voglio dire Benché io Non debba speculare Su di te Phalanx Il tuo primo Vincolatore è qui Se lui non ci è riuscito Allora Chi ci è riuscito Mi spiego È estremamente Importante Esatto Bravo Infatti Questa è una cosa Di cui parleremo Cioè credo che anche tu Abbia fatto una scelta Basata Ma certo Che l'ho fatto Su questa cosa Altrimenti avrei scelto Un'altra direzione Eh certo Io credo E sto andando Full meta Anche sulla nostra Stessa serie Credo che tu Stesso voglia creare Un universo ordinato Delle tue narrazioni Dei tuoi personaggi E stai un po' Secondo me Chiudendo il cerchio Su Dark Souls Con questa serie In live Stai tornando a spirale Su quello che hai fatto Per Sistemarlo Ma non nel senso Che avesse bisogno Di essere sistemato Per dargli un twist Per Esatto È il twist È il twist E soprattutto Per dargli la quarta dimensione Siamo riusciti In questo A creare qualcosa Che di solito Esiste soltanto In realtà Molto più grandi Delle nostre Ma non A quanto pare Meno Emotivamente importante Perché riprendere qualcosa Di così tanti anni fa E dargli una continuity Così logica E così fattuale È meraviglioso E vedete No Non è Falanx secondo Rispondo alla chat No E non è bravissimo Non è C'è un motivo Perché l'ho chiamato Sabaku secondo Uno Questo Cioè Questo invece No Questo è Falanx Questo è proprio lui È proprio lui È proprio lui E quindi io Io mi aspetto Che anche La blind run Di Dark Souls Uno Di Michele Trovi una nuova fine In Dark Souls Ultre live insieme Nella veteran run Cioè tutto convergerà Esatto E praticamente La blind run Di Dark Souls Uno Di Michele Su Youtube In realtà Convergerà Con la run Veterana Di Dark Souls Uno Che abbiamo fatto A gennaio Io mi aspetto Questo Mi aspetto Che Sabaku Secondo E Falanx Coesisteranno E che quindi Il vincolatore Della prima storia Non è Falanx Perché Falanx Ha fallito E in realtà Quindi nella nostra Narrazione Abbiamo Firenze E Sabaku Secondo Che si scontrano Firenze Vai Non accende Magari Sabaku Secondo Rimane stordito Da qualche parte Va Falanx Si da fuoco Ma non succede niente Poi Sabaku Si sveglia Per la campana E va a vincolare Lui E lì davvero Ci riesce E tutto possibile Adesso che sappiamo Come si è evoluta La storia Queste sono cosine Che i ragazzi Che i ragazzi Sentiranno Nell'extra E che tu scoprirai Piano piano Mentre però Guarda Stiamo speculando Sulla stock Che figata Bello Let's go Adoro Adoro Allora Non ho finito E oggi ragazzi Vi va così Su 35 minuti Sì però Guarda che Non c'è stata Non c'è Non si è sputato Praticamente È stato perfetto Non sapevo che non fosse Una blind run L'anima oscura 1 Ragazzi Io pensavo che vi avesse Portato una blind run La prima volta Non hai portato una blind run In live Cioè su in video No 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 ok Avevi già giocato Sì Ok Eh non lo sapevo Io non li ho visti Ragazzi Non li posso vedere Non preoccuparti Ma l'anima oscura Non è un contenuto blind Ok Quindi La tua blind run Non esiste Di Dark Souls 1 In rete Allora di questo Ne parleremo meglio Diciamo che C'è una cosa importante A riguardo Sulla mia blind run Di Dark Souls 1 Che Ho intenzione di raccontarti Tempo al tempo Ti avrai Avrai una chicca Riconfronti Dalla mia blind run Di Dark Souls 1 Ok 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 Sappi che fa parte Dei piani Allora Arriviamo al Wolnir A Wolnir Al boss Che abbiamo affrontato Non parlerò di Isalit Perché sarebbe Completamente inutile Ho solo visto Delle colonne E per quanto ne sappiamo La natura di questa Isalit è la stessa Di Lord Run In Dark Souls 2 Sepolta Geograficamente Geologicamente Da altro Quindi Mi fermo qui per ora Sono invece molto Interessato A Ispezionare bene Logicamente Quello che abbiamo visto Con il calice Infatti F ha toccato il calice E Il calice Ha cominciato A sgorgare Oscurità Sì Il calice in realtà Non si è mai mosso Probabilmente Perché non lo abbiamo Ritrovato A terra Nella boss fight Ma È tornato Esattamente a posto E quindi Non si è mai spostato Quando siamo stati Di nuovo Trasportati Alle catacombe Quindi credo Che attraverso I gioielli Che abbiamo spezzato Walnir Con Magari una magia Ha preso attraverso Il tomo Che abbiamo Raccolto Per terra Egli fosse riuscito A vincolare Se stesso Inteso però In italiano Ragazzi Vincolare Ok Quindi non il vincolo Della fiamma No 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 Sì 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 Vincolare se stesso Al calice Questo ha comportato Per Walnir Il non sprofondare Dentro l'abisso Definitivamente Quindi non finire Risucchiato E plausibilmente Consumato Ecco Anche sì Dalle Dalle profondità Del resto Le catacombe Anche di Dark Souls 1 Avevano completamente Consumato I morti Perché in generale La vuotezza Consuma completamente I morti E li rende ossa E Walnir Immagino Che volesse ancora Mantenere Tipo Horcrux Esatto Walnir Credo volesse Mantenere La sua grandezza Lo sfarzo Legato anche Alla sua figura Lo dimostra Il fatto che L'oggetto Utilizzato Per mantenersi Ancora vincolato Al mondo reale Chiamiamolo così Il mondo Dei vivi Sono gioielli Non sono talismani Non è un simbolo Religioso Sono gioielli Quindi Credo fosse Un uomo Attaccato Estremamente Alla materialità Delle cose Era un conquistatore Era proprio Un vero condottiero Un vero re Se vogliamo Un vero despota Forse Non ricordo Quale fosse il titolo Del boss Walnir Il Allora È il supremo È il conquistatore Ed è il supremo Perfetto Era un conquistatore Supremo E pertanto Aveva anche Molte ricchezze Aveva basato Poi il suo regno Sulla morte Aveva raccolto In questi vasi Tanti morti Che si erano Decomposti Tanti Tanti Avevano evocato Bombe d'oscurità Quindi lui Ha cominciato A giocare con l'oscurità Si è reso conto Probabilmente Che questa oscurità Potenziava Le sue lesioni E quindi potenziandole Poteva conquistare Ancora di più Ottenere più ricchezze Più sudditi Più milizie Lo vedo proprio Come un conquistatore Alla impero romano Quindi non voleva Abbandonare Il senno Non voleva Abbandonare Il sensibile E quindi Si vincola Al calice Come dicevo Questo vincolo Porta lui A non abbandonare Del tutto il mondo Dei vivi Ma Porta anche Il calice A essere legato All'abisso E diventa un portale Quindi il calice È il motivo Per il quale È un'istanza Esatto È un'istanza Di abisso Che Si vai Prosegui Prosegui Eh si si Me la immagino Bravo Un'istanza di abisso Rende bene l'idea È un pezzo di abisso Che esiste Contemporaneamente Nell'abisso E qui Perché è in mezzo Sta Non so se tu hai visto Twin Peaks Qualcuno in chat Ha visto La terza serie Di Twin Peaks Ma spiegano Vagamente Che varie dimensioni Possono vibrare A frequenze Leggermente simili E quindi vedersi Fra di loro Laddove Invece in linea di massima Noi potremmo Coesistere con varie altre dimensioni Ma siccome vibrano A frequenze diversissime Dalla nostra Non le vediamo Non le percepiamo Come la loggia Esattamente O il famoso benzinaio E chi sa sa E Qui avverto la stessa cosa Cioè L'oscurità che c'è nel calice È un Mezzo abisso È a metà Tra l'abisso E qui Perché lui si è Trattenuto a metà Lui è un essere Che sia un po' qui Che un po' lì E quindi Ecco perché Credo che Siamo riusciti a incontrarlo E spezzando gli gioielli Quell'animazione Non mentiva Lui cade Non sparisce Non si scioglie L'animazione È stata messa apposta Ragazzi Non ci credo Che fosse Che fosse casuale Lui proprio sprofonda Lo vedete E anche Il suo stesso movimento Nella boss fight Viene giustificato Da quella morte Alla fine Lui gattona Si arrampica E tu perdi Quando lui finisce Di arrampicarsi Quasi come se tu Gli ridessi accesso Nel mondo dei Lo chiamo mondo dei vivi So che è sbagliato No no ma è chiaro Alla storia dell'abisso Quindi Lui che gattona E alla fine Ti sconfigge E riesce a uscire Ma tu Lo fermi Prima del tempo E lui sprofonda Magari stava cercando Di risalire da un po' Morale della favola Non so se verrà mai Più approfondito Questo potere Ma è Devastantemente importante Perché Manus Si Ci ha presi Dall'abisso Ma noi non eravamo Nell'abisso Eh no 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 Quello è stato Proprio Un Uso Manus È magico Nella sua Diciamo Retroattiva Bellezza Perché quello che ha fatto Manus è stato Attraverso un'emozione Talmente forte Aprire un portale Di stagnazione Cioè Lui ha utilizzato La stagnazione Per prenderti dal presente E portarti al suo tempo Con le mani Ed è proprio lì che Voglio arrivare Credo che la stagnazione Renda possibile Questa magia Senza stagnazione Forse non sarebbe possibile Vincolare Se stessi Al calice Sono cose Che esistono Solo perché Ormai lo spazio-tempo È a puttane Altrimenti Questa Magia Questa gimmick Di Walnir Non potrebbe Non potrebbe esistere Mi chiedo Quante altre cose Siano possibili Ora che la stagnazione È così grave Eh beh È quello che si chiedevano Con grande interesse I diaconi Sì Eh loro però Erano passati a fare Gli esperimenti Nel laboratorio Di Dexter Lì sotto Ma che intro Eh E continua Considera che adesso La prima cosa che farai Sarà dare un'occhiata Alla sua anima A quello che puoi farci Giusto Giusto Stai speculando Senza le descrizioni E Quindi Chiudo Sì Ci troviamo davanti Alla valle boreale Ma Nonostante Io volessi Ieri Continuare Alla valle boreale E Tu mi avessi spinto A Andare invece A proseguire Nel lago Sì E questa cosa Mi faceva storcere Il naso In verità Mi trovo d'accordo Con questa tua scelta Perché È palese Che Aisalit Abbia ispirato Carthas Erano anche piromanti Quelli di Carthas Lo abbiamo già letto Sì Quindi magari Le risposte a questa mia domanda Al modo in cui L'oscurità è entrata Nella cultura Di Carthas Le potremmo trovare Proprio qui Leggendo quale destino È toccato Alla terra Della vecchia strega Di Aisalit Ora che anche La prima fiamma Si è spenta I demoni Si stanno spegnendo Con lei Esattamente La fiamma del caos Non esiste più Perché Veniva generata Da Beh Aisalit stessa Dopotutto E tra l'altro Aggiungo Ecco perché forse Una nuova branca Della piromanzia È nata Perché ormai Si è proprio lontani Da Aisalit Dalla sua storia Dalla sua forza Dalla sua fiamma E quindi Lontani dalla fiamma Di Aisalit Lontani dal cuore E nuove piromanzie Nascono e si corrompono Tanto quanto si è Corrotta la fede Dei diaconi Cioè Dark Souls 3 Racconta sempre La stessa storia Se ci pensate Ovvero di come La perdita Di forza Della fiamma Cambia culturalmente Ogni singolo luogo Che prima Ne era Bene o male Influenzato A livello culturale Storico e religioso La fiamma non c'è Nel dipinto Di Ariandel E allora la dobbiamo Riportare La fiamma non c'è All'interno di Lothric E allora le mura Si alzano E tutto cambia La fiamma Si sta spegnendo Nel lago Ex Aisalit E quindi i demoni Sono più di pietra Che di carne Perché sono cenere Anche loro La fiamma si spegne E quindi noi I protagonisti Siamo meno calorosi La fiamma si spegne E quindi dobbiamo portare Al trono I tizzoni Dei vecchi Lord of Cinder Tutto Il massimo Comun denominatore È La fiamma si spegne E quindi Tutto cambia Lloyd perde potere La chiesa nera Lo acquisisce È tutto un effetto Domino Devastante Oh si Andiamo Andiamo Comincia pure Un giro A quello che comunque Non sarà più Prolisso Come è stato in passato Ma Al di là di tutto Sarà un bel giro Denso A Fire in Crime Ne godo Oh si Ne godo Che bella intro Mamma mia Stupenda Veramente Eh si Fa un po' male Fa male Vero Fa proprio male È un arrivederci È un arrivederci Esatto O si no Direi Ossino Sì sì Ossino E O meglio Facciamo un giro a Fire È uguale Sì esatto Avevi un follow vicino Ma cambia poco Credo che Rispondo alla chat Credo che le gambe Non avessero i gioielli Per questo non c'erano Le gambe sono già nell'abisso Le gambe di Walnir Il pezzo di corpo Che rimane È quello che Illuminato Dall'artefatto Esatto Esatto Sono riusciti a trattenere Cioè credo davvero Che non avesse le gambe Per questo motivo Allora intanto Livellino Eh direi Un destrezza Si fa più male Niente piedini Esatto Facciamo il solito giro Proprio ordinato Sarà finito Quel pezzo di cazzo Di patches Oh ecco Bravo Stavo aspettando Che tu ti facessi Questa domanda Beh lui niente Lui ancora niente Sarà tornato qua Firelink Da qualche parte O ha abbandonato Firelink O è qui da qualche parte Qui non c'è più nessuno Però aspetta Devo leggere l'anima Così poi Vediamo Ludless Cosa ci fa Anima del signore Supremo Wulnir Un'anima corrotta In risa di potere Usala per acquisire Numerose anime O trasferiscila Per estrarne la vera forza Wulnir Signore di Carthas Condannò Innumerevoli anime A morte atroci Perché era suo desiderio Vivere in eterno Significa che ha sacrificato Vite per allungare la sua Non ti darò supporto Fino che non hai anche visto l'arma E tutto il resto Per ora vai E poi entro in campo Sembra molto vampirica Come cosa Stavo per uccidere Ludless Se avessi premuto Tre secondi più tardi Per sbaglio R2 Anche perché Penso che lui Venga shottato Da Un colpo Guardalo poverino Niente Stessa cosa Vediamo un po' Serpente nero Sì Serpente nero è nuova Sì Piromanzia scoperta Nell'abisso Dal signore supremo Wulnir Che ispirò le arti oscure Dei guardiani della cripta Quindi abbiamo la conferma Che è effettivamente Una distorsione della piromanzia Come dicevo Cinque minuti fa Emette una nera fiamma Ondulata sul terreno Tutte le tecniche Che violano Violano l'umanità stessa Che si tratti di Strigunerie o piromanzie Portano Allo stesso risultato In esse Nasce infatti Una volontà propria Attenzione Quindi Navlan all over again Non è Navlan all over again Per quanto La correlazione Possa avere un senso Però Molto lontano In questo caso Ti correggo Ma Una conferma In Dark Souls 3 Che vuole veramente Essere il Ve prego Ve prego L'avete Capito Vero Ti prego Che L'umanità Ha una volontà L'anima oscura Ha una volontà Quindi Piromanzie Stregonerie Miracoli Tutto ciò che gira intorno All'uso dell'oscurità Infine Sviluppa Una volontà Quindi In questo caso La Fiamma Il serpente nero Il serpente nero Insegue E Si è attirato Dal prossimo Però perdonami Questo Questa informazione Ce l'abbiamo Da DLC1 Cioè DLC di Dark Souls Manus Sì Quando vediamo Le umanità A forma di Esseri umani E stilizzati Che ci inseguono E ci assorbono Anche Anche la descrizione Di molti oggetti Oscuri Introduce proprio Il discorso Del È amore O invidia Quella che provano Che cosa succede Che cos'è l'umanità Eccetera 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 Credo che assorbisse Umanità Il nostro amico Con questa piromanzia Pugno demoniaco Questo lo avevamo già Però Che cosa abbiamo Anche l'anima di un demone Però l'abbiamo letta No no C'è ancora un oggetto Di Wolnir Vediamo un po' Ah ecco la Spada sacra Di Wolnir Una spada sacra Corrosa dall'abisso Quando Wolnir Cadde nell'abisso Un grande terrore Dell'oscurità Lo colse Per la prima volta Egli chiese Pietà agli dei Mi piace molto Questa cosa Di lui Grande conquistatore Se ne è sempre Sbattuto degli dei Tanto Era un uomo ricco Forte Potente Però Nella paura Tutti chiedono Il perdono degli dei Questa sacra spada I braccialetti rubati Alle spoglie Di tre chierici Gli diedero Il conforto Che cercava I braccialetti Rubati alle spoglie Di tre chierici Tra i morti Che ha sacrificato Ha preso questi artefatti Da chierici Esatto E sono i gioielli Che aveva indosso Sì Abilità Ira degli dei Pianta la spada A terra Per emettere Una tremenda onda D'urto L'ira Di chi è stato Indiottito Dall'abisso È una cosa Invero Temibile Quindi Lore crux Diciamo Del calice È stato possibile Non tanto per la creazione Di artefatti Fatti apposta Ma per il potere Che era già insito Dentro questi oggetti Dei chierici Mi chiedo ciò Cioè È una domanda lecita Sì Ovviamente Non avrò risposta Per ora Beh Forse la troverò al lago Diciamo che Allora Ponimi la domanda Di nuovo Vediamo cosa posso dirti A riguardo Sono i gioielli Che erano già intrisi Di un potere divino Tale da proteggere Del tutto Dall'abisso Wolnir O è Wolnir Che ha utilizzato Quegli oggetti rari Ai quali era affezionato Perché li aveva saccheggiati Per Incanalare Dentro di essi Una magia Che lo tenesse Nel mondo È sicuramente Guarda su questo Ti posso Questo Non ha una risposta Concreta Ti posso dire Che comunque È chiaramente Entrambi Cioè Gli oggetti dei chiarici Hanno un potere Di miracolo Con fede E racconti Però Alla fine Quello che fanno È una luce Che cacci via L'oscurità E quindi Lui Aveva Un conforto Che gli permetteva Di Non essere Assorbito O impazzire Nell'abisso Si è completamente Sciolta Questa spada Mamma mia E l'avrebbe tirata fuori Mi avevi detto Vero Ora me lo sono ricordato Si era il suo attacco speciale Ma L'ho sciolto troppo presto Si E quindi Chiese pietà agli dei Quali dei? Ah beh Chissà Questo è divertente E lui era particolarmente oscuro Beh lui era particolarmente Guarda Ateo Adesso Adesso Hai letto i suoi oggetti Ti Faccio Il pollicino E raggiungiamo la sua storia Che non è molto complessa Però Un po' come quella di Girandola Delle catacombe È importante Ossia Wolnir Era un conquistatore In giapponese La sua anima Dice una frase Leggermente diversa Che vuol fare L'occhiolino Alla risposta Ovviamente Purtroppo Ovviamente Il cacchio A volte è ovviamente Stavolta no È un peccato Che sia andato perso Questo indizio Perché in blind Avrebbe aiutato molto Quello che dice È che Si Wolnir Ha sacrificato Si manca la corona Dello shop Se vuoi leggila Non è Vai vai Cos'è che manca? Puoi comprare La corona di Wolnir Dall'ancella Dall'ancella Eh ma tanto Le devo dare le sceneri Ok Ti ricordi ancora Ce n'è da fare Facciamo questo discorso Lui voleva Diventare Lui ha sacrificato Tante 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 vite Implicitamente Sì Perché voleva diventare Immortale Ma in descrizione C'era scritto Ha creato Tanti morti Perché voleva essere L'ultimo di questi Praticamente Ah Esatto Praticamente Quello che viene Esplicitato nella descrizione Voleva fare Nito Bravi Visto che con la descrizione giusta Ci si arriva Porca puttana Ecco Vabbè Esatto Visto che Nito Era il primo dei morti Lui voleva essere L'ultimo Questo implica Che in realtà Wolnir Comunque si è suicidato E perché si è suicidato? Perché il suo obiettivo Una volta scoperte Certe verità Era proprio Diventare Come Nito Un essere Immortale Non soltanto Eterno E in maniera Molto più Di controllo e potere Che il non morto Che imputridisce Ma Ma Con un esercito Eterno Al suo fianco Quello che ha fatto Wolnir Infatti Guarda Questa è una cosa Che richiede Non soltanto esplorazione Ma un po' di Minuzia Curiosa Durante la blind Se tu vai a vedere Col binocolo I cadaveri All'interno Per assorbirli e fare Nito Assolutamente sì Assolutamente sì O cerca Se vuoi ricontrollo Ma in questa piazza Non mi sembra che ci sia No in questa piazza no Cerca meglio Ti immagini È seduto su un trono Sarebbe Mamma mia Secondo me Lo ammazzo Lo ammazzo di botte Se su un trono Lo ammazzo di botte Secondo me Non lo farebbe Qui non sembra esserci maestro Io vado oltre Nel Crest Folline è un po' Che non c'è ragazzi È vero Ancellopoli L'ultima volta ci ha chiusi dentro Sì Consegniamogli la cenere Ai miei tempi morti Vincolavano in orario No mixedly Non ho trasferito l'anima dei diaconi Dovevamo? Mi ero detto di farlo? No Non ti ho detto di farlo Le descrizioni puoi leggerle Anche senza Grazie al cielo Ma l'avevamo letta quella? Sì Se non mi ricordo male Mi ero detto di trasferirla? Sto chiedendo perché magari me ne sono dimenticato Magari mi ero detto Voglio questo oggetto Ma non mi pare Allora Cosa abbiamo di nuovo qua? Sicuramente il belletto di Carthas Frammento di Tita Pugnale La scimit La mazza chiodata Bastone dello stregone Luncazzo 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 Elmo del boia Cappello Granzaggio Dov'è la corona? La corona Ma più che altro dove sono gli oggetti nuovi? Tu gli hai dato la cina Eh guarda in realtà Intanto ho tre braccia e le prendo No vabbè no In realtà Guarda Ricordarsi cosa aggiunge ogni braccia È qualcosa che It's beyond me adesso Secondo me ha aggiunto solo il belletto di Carthas Di solito non è solo un oggetto Qualcosina ci sarà Ma secondo me vale la pena Ragazzi in chat Dicono che la corona c'è e sono ceccato ragazzi Ok allora aspetta Guarda usa i filtri Vai sui set con R1 In fondo Ah eccola qua Ok Non l'avevo vista Perché ho lo schermetto piccolo Ok In caso ragazzi Quando lui dà una cenere Controllate pure sulla wiki E diciamoglielo Perché sono piccolezze Che possono essere utili Quindi ha aggiunto I cucri Ah ecco I cucri Giusto Ok Cucri che andrebbero pure presi Sembrano veramente fighi Eh sì Li ho presi E dicevo Leggiamo Corona di Wolnir Conquistatore di Carthas In passato gli oggetti Oggetti del genere Venivano assegnati Solo ai signori Meritevoli Finché Wolnir Non li sconfisse E calpestò le loro corone Nella polvere Mi piace pensare Che siano i re di Dark Souls 2 Le corone si unirono E Wolnir fu proclamato Signore Supremo No ok Ragazzi Allora Se io fossi stato Sabaku Vi direi che Wolnir È la citazione Al player di Dark Souls 2 Cioè se io giocassi in blind Al tempo Vi dico Era uno che Voleva replicare Nito Viveva all'ombra di Isalith Unisce le corone Era un conquistatore Supremo E muore sopraffatto dall'abisso È Dark Souls 2 Per me è una citazione A Dark Souls 2 Wolnir È una cosa Secondo me Molto coerente Con i fatti Anche perché È praticamente Quella di Wolnir L'unica storia Qui si fa proprio meta Se vogliamo seguire Questa interpretazione Che ti assicuro Trovo acuta È l'unica storia Indipendente Ah ok Che non è collegata A nessun'altra Eh no O meglio In realtà Non è proprio Wolnir Tornerà fuori Però La sua storia Non è collegata Wolnir è collegato La storia no Beh sono d'accordo Con Drake Fireheart Su questo Se dovesse essere L'unico spunto Che Dark Souls Soffre Di serio A Dark Souls 3 Mi dispiacerebbe Su questo sì Ora L'unico è sbagliato Perché ne abbiamo già visti altri No infatti Altro che Però Però Spero che si vada più disto Spero che almeno la terza via Sia salva Perché ormai ho capito Che purtroppo Le figlie Non ci sono Sarebbero venute fuori Con la chiesa nera Eh decisamente Credo che Le figlie Di Manus Siano solo servite A Miyazaki Per ispirarsi E fare queste sorelle Che fondano la chiesa nera Però sono tutt'altra cosa Non sono frammenti Di oscurità Secondo me almeno Quindi Credo che quell'idea Purtroppo L'abbia abbandonata Perché ha un po' abbandonato Manus Manus si è evoluto Sì In tanti altri Esseri Che si trasformano Manus Non viene interpretato più Come villain Perpetuo Che cerca di resistere Alla morte Ma Manus È solo la prima vittima Illustri Di oscurità Che diventa sempre più comune Proprio come Gli effetti negativi Della fine della fiamma Sì Ehm Però Mi piace molto Questo modo Questo modo Di riassumere Dark Souls 2 In realtà È molto rispettoso Sì Molto Molto rispettoso Cioè Qui vedo Che Mi sembra comunque Di vedere un Miyazaki Che fa Vabbè Thanks to Dark Souls 2 No ma infatti Poi lo sai no Comunque Gli orientali Nei confronti Della creatività altrui Sono molto rispettosi Rispettosi È vero Comunque Io ve lo dico ragazzi eh Io qui ve lo dico Pretendo Ma tanto sicuramente Lo pretenderà ancora Il maestro Prima di me Pretendo Che nello staff Ci siano persone Che giocano Elden Ring In giapponese Mentre lo facciamo noi Perché se no Non ne usciamo Guarda No davvero È una cosa In realtà Qui Qui mi Mi freghi Proprio sul tempo Perché Visto quello Che abbiamo vissuto Con Dark Souls Una delle cosine Che volevo pianificare Per La Run Che faremo su Twitch È proprio L'avere un supporto Traduttivo In tempo reale Per forza Hai colto Qualcosa Che appunto Sono felice Che hai pensato anche tu Perché hai percepito Appieno Il ruolo che ha Io ho proprio Dei collaboratori Che fanno per me Anche altre cose Ma ce li hai anche tu Sì Li mettiamo insieme Li facciamo leggere Così fanno Triple Quadruplo Checking Siamo sicuri Che quello che esce Dalle nostre live È sicuramente Quello che c'è scritto In giapponese Sì Perché se no qui Cioè qui ci sei te Che mi dici Eh vabbè La storia di Walnir In realtà in giapponese Vuol dire questo Ma lì Dal primo gameplay Lì praticamente Viviamo Vivremmo La stessa storia All over again Eh sì Quindi no Dobbiamo Dobbiamo essere Insomma Pronti Perché una sfumatura Del genere Qui mi avrebbe fatto Perdere il senso Forse la citazione Di Dark Souls 2 L'avrei colta Nella corona Però non sarebbe Sì no La citazione di Dark Souls 2 È qualcosa Che si Si sente Però Però Non quella Cioè Uno pensa Vabbè ma Ha voluto richiamare Nito Per fanservice Oppure No Il fan era Vuol dire Che però in realtà Magari non sapeva davvero Fino in fondo Di Nito Ma sapeva Che esisteva Il primo morto No Sì 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 Di sicuro Andiamo da Andre Non ho anime Aspetta Mamma mia Quando mi dice Predibli careful Quanto il prepuzio Proprio Si Riempie di gioia Ah questa Me l'ha data P 12k Per risparmiare Perfetto Patches Di merda Allora Io un po' Le discolame Ci sono affezionato Con questa serve Mamma mia Altre tre Lucertolone grosse Capito Questa Figuriamoci Altri pezzi Di tita Potremmo Potenziare Un po' Le discolame Guarda che Per ora Questa Guarda c'è da dire Che è bellissimo Come Questo I ragazzi Lo apprezzeranno Moltissimo Come all'interno Del tuo percorso Sei arrivato In Dark Souls 3 A Autonomamente Iniziare a giocare Ancora di più Come un Souls player Con tante armi Esatto Che non si aggancia Alla prima cosa efficace Che trova Anche perché È un classico Dire Ah quante belle descrizioni Ah aspetta Ma le descrizioni Arrivano da oggetti Utilizzabili No Cioè Sì è vero È vero Non sono soltanto Testi Potenziamo l'arco Bravi Me lo sto dicendo Da una vita E non lo faccio mai Perché non lo vedo In questo menu Eh sì L'arco potenziato È figo Ma Il buclo Non aumenta No No Sì 75 No Allora Potenziare gli scudi Aumenta la stabilità Quanta stabilità Amina viene consumata Quando tu usi Per difenderli E Il danno che fai Con le mazzate Cazzo ho fatto Ok Marco lungo Più 4 Sto consumando un po' Po' di lame Da mercenario Ma Uccigatana Più 5 Adesso richiede Il frammento grande Della tuta Ma Ma katana Farron Com'è Mi manca un po' La katana Mi piace Girare tra le armi Sì Forse è proprio la cosa Che mi sta piacendo di più Di questo Bello Di questo gameplay Sono contento E aspetta Facciamo una cosa Un cinereino C'è che la dobbiamo Echippare Però Allora Via i coltelli Normali Via le pietre prismatiche Via la merda Che volevo tirare In faccia a patches Le braci Sì le teniamo Le bombe incendiarie Fanno piuttosto cagare Via via Teniamo meno roba possibile Ma tutta utile Ok Il cinereino E poi Freddy Be careful E Mamma mia Mamma mia Potrei Puoi fare un po' Di infusio E fare La uc Affillata Per esempio Scalerebbe A 161 Più 101 Non è poco Contro 172 Più 72 Quindi è un aumento Di 20 Notto beddo Notto beddo Lo farei ragazzi Sì sì Affiliamo qua Ed è il momento Di farlo Non delle profondità Ma velenose Bello Discolame Velenose Discolame Velenose Uccigatana Affilata E le piume di corvo Affilate E vabbè Lo spadone Che non gli si può Fare niente A questo punto Ti consiglierei Scegli Infine Goditi le armi Affilate Ma poi ti direi Scegliene una Affilata E l'altra Falla sanguigna Così fai proprio L'unplan Sì Quando potrai farlo Ovviamente Tra l'altro Adesso fa veramente Malissimo Quindi 188 Più 107 L'Uccigatana Non è tanto diversa Adesso No no ma infatti Cioè Cambia di una ventina Di punti Ho dei tomi Da dare Uno credo ragazzi Uno sì Quello delle profondità Hai le piromanzie Ricardos Cioè quello delle profondità Esatto Perdonatemi Quello dell'abisso Volevo dire Ok va bene Senti ma Ho visitato un abisso Vorrei raccontartelo Iuria Te ne fotte un cazzo Oh 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 Ma che dici? Ma che stai dicendo? Che succede? Cos'è questa storia? Henri Henri è La Una campionessa forse? No Henri è la cavalleressa Di Ostora Ah è lei Giusto Sì è lei E vuole darmela in sposa Sta venendo guidata Da un mio compagno Quindi Horace Era un suo compagno Si era unito alla chiesa nera Perché vuole darmela in sposa? Perché infatti? Che significa? Forse le ha Chiuso anche a lei Il Segno oscuro? È possibile a questo punto Anche lei è una campionessa È Completamente coperta E lei è completamente coperta Non puoi vederla Esatto E quindi cosa fa? Cambia sesso Se cambia PG? Bravo Sì Ok Cioè nel senso Poteva anche essere omosessuale Il matrimonio No Però in questo caso È una chicca di gameplay Che ha voluto Realizzare È la prima cosa che mi viene in mente E anche il doppiatore cambia Ah è anche Giustamente Ma tu pensa Eh sì A quanto pare Questo Questa è importante Henri Henri Sì anche secondo me FP erano una Sarebbero stati una coppia migliore Però Decisamente La guida un mio compagno E allora mi sa che era Horus Quindi loro sono entrambi i bambini Sì 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 Scappati da Aldrich I figli di Rosaria Uno di questi figli di Rosaria Horus Ha anche gioinato la chiesa nera E quindi loro Cos'è una roba L'hai visto l'avvocato del diavolo? Sì Hai presente no? Cioè il piano di Al Pacino È quello di far sposare L'anticristo Eh sì Qui c'è qualcosa di molto simile Sembra un po' una storia simile Sì La chiesa nera Sembra aver trovato veramente dei modi Molto creativi Per Raggirare delle regole Però questo matrimonio è una cosa strana Perché mi ha attaccato? Perché è diventato vuoto ragazzi È diventato vuoto Horus Mi ha attaccato perché non ha capito neanche che fossi io Purtroppo no Ora si è perduto Il laguardente lo ha spezzato Ma non per motivi romantici Purtroppo la vuotezza a volte coia e basta C'è niente di nuovo te No Adesso hai il tomo piromantico di Carthus Per Cornix Giusto E vabbè Ce la posso fare Ne ho due Ottimo Tanta ciccia allora Ah non l'hai mai vista L'avamo già letto ragazzi no? O non l'abbiamo già letto? Sì Se non l'abbiamo letto ragazzi recuperiamo la descrizione No l'abbiamo letto L'abbiamo letto Mi pare si fosse già letto ieri Esatto Appena preso L'hai letto L'hai letto Forse questo no? Forse questo no E allora lo leggo Aspettate Eh sì Allora aspettate Lo leggo Perfection Oggetto chiave È un oggetto chiave Giusto Perché questo è quello che abbiamo trovato Dal boss Esatto Tomo sulla piromanzia del guardiano della cripta Delle catacombe di Carthus Portalo al vecchio maestro piromante Per apprendere le piromanzie nere Il signore supremo Wulnir di Carthus Cedette all'abisso Ma il piromante divenne in seguito Un guardiano della cripta E scoprì la fiamma nera Eh? La fiamma nera era la piromanzia Unita all'umanità È quello che hai trovato anche Nelle profondità di Ulasil Sì 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 Però Quello che non mi è chiaro è Il signore supremo Wulnir Cedette all'abisso Ma il piromante Quindi lui era anche un piromante Non solo un condottiero Era proprio piromante per davvero Divenne? No 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 Il piromante è un'altra persona Ah è un'altra persona? Sì Ah ok Quindi il piromante È forse colui Che ha vincolato Wulnir È probabilmente qualcuno Che ha Abbandonato Wulnir Una volta che è caduto Vittima dell'abisso È diventato un guardiano Della cripta Però quale cripta Perdonami La cripta Dove abbiamo trovato lui? Diciamo che la cripta È la catacomba Ma non solo la catacomba Vedrai che Di questo piromante Sentiremo un po' più parlare Oltretutto Adesso mi arriva anche La traduzione dal giapponese Perché indovina un po' È diversa Fantastico Portalo al vecchio maestro piromante Per apprendere le piromanzie nere Il signore supremo Wulnir Di Karth Scedette all'abisso Ma il piromante Divenne in seguito Un guardiano della cripta E scoprì la fiamma nera Eh anche Anche secondo me Sono d'accordo con la chat Sembra proprio tradotta Un po' a cazzo È proprio in italiano Suona male questa frase Allora Adesso te la vado a prendere Sembra che manchi un pezzo Vediamo Però Intanto gliela consegno Sì sì no Tu intanto consegnela Io ti passo le magie Come? Sì Quindi servirà un altro Quanto pare E infatti sapevamo Che questa piromanzia È una piromanzia Diversa da tutte le altre Separata Firenze È la piromanzia di Firenze Aspetta 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 Che mi devo leggere Le tue piromanzie Franco Allora Eccoci qua Faro di Carthas La piromanzia più misteriosa Tra quelle sviluppate A Carthas Dei deserti Sabaccuno Carthas Gli attacchi consecutivi Causano danni maggiori Figo L'aggressività di Carthas È stata paragonata A quella di un incendio Fuori controllo Da tempo immemore Il suo faro È un segnale di guerra Piromanzia di Carthas Dei deserti Arco Fiammante di Carthas I guerrieri di Carthas Preferivano integrare Le abilità Dei loro spadaccini Con piromanzia Di questo tipo Che ne rinforzavano Le spade ricurve Erano veramente Dei mischioni Gli stili Di otta Dei Guerrieri di Carthas Lame d'assassino Spade ricurve Shotel Ma oscurità Ma piromanzia Avevano veramente Mischiato tanto Per questo erano Molto forti Erano un po' Come il giocatore Non credo che Orbeck Abbia da commentare Sul tomo Ma vediamo No Sì Comunque sì I piromanti di Carthus Sono diventati In sostanza I guardiani della cripta Dopo il macello Quindi era Quindi era Al plurale Però Perché qui sembra Il piromante Però no Qui è carino Che ci sia un singolare Adesso Ok Appena arriva la traduzione Proprio dell'oggetto Ti dico Ma è carino Che ci sia il singolare Non è Beh ragazzi Pacis non c'è Allora Sali qui Vai a sinistra Fa come se volessi Andare alla torre Vai Esatto Sali le scale Continua dritto Dai è il momento No 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 Ma Dopo tutto lo sforzo Che abbiamo fatto Per tenerlo in vita Allora P 10k E lo salvo Va bene Ok Ah Sì 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 Di nuovo No Sbagli No L'unica cosa che Posso non perdonarlo Almeno Ah certo Che puoi non perdonarlo Ah ok No io lo ammazzo Ragazzo Ma che cazzo vuoi Fammi vedere Allora 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 Ascoltami Ascoltami Sì Facciamo una cosa Adesso lui diventa un vendor Ok Ok Compra tutto lo ammazzo Compra quello che vuoi Ti dico una cosa importante Se 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 Visto all'insistenza Il gusto che percepisco L'anima mi arriva Il role play Vuole portarti All'uccisione di Patches Dovrai entrare In un patto narrativo Che non rimuove un difetto Ma che avrei affrontato Dopo Che si notasse Non facendotelo notare Così si noterà Un giorno Molto molto lontano Ti dico Dovrai accettare Un patto narrativo Di una piccola Un piccolo errorino Di continuity Ok Se tu accetti Un errorino di continuity No però aspetta Dopo Se noi Se adesso non lo ammazzo Sì Posso ammazzarlo A un certo punto Certamente Cioè Nel senso Possiamo evitare Questo errore di continuity Se ora ho pazienza E non lo ammazzo Sì È quello Su cui ho lavorato Fino ad ora Ok Allora va bene Però Pi mi devi promettere Che mi lascerai Ammazzarlo un giorno In qualunque modo Tu preferisca Se ne avrai ancora Desiderio Va bene 12k Passeranno tuoi Intanto Falax ovviamente Nostalgico Nei confronti di Patches E lo stimante Solo per essere arrivato vivo Fino a qui Allora Pillo la bomba nera Bomba nera con Mitch Finora Stimante Tutta roba che conosciamo Ciarpame Pugnale Shuttle Della Iena Sono le stesse cose Che aveva prima Ah in realtà Non ha niente di nuovo Per ora Perché questo è il set Di Perfetto Sì ok Già fatto Già fatto Perché tu hai Però non c'è niente di nuovo Infatti è questo Grazie a quello zig zag Hai ottenuto entrambe Le sue interazioni Di solito ne becchi una È certo Perché ho fatto Due interazioni con lui Già Esatto Bene Allora la traduzione Originale dice Si dice Che dopo che il reconquistatore Di Cartes Wallner Cade nell'abisso I piromanti di Venero Guardiani delle catacombe Scoprirono la fiamma nera Vedi Avevo la sensazione Che dicesse questo Anche in ciattolo Dicevano Esatto Esatto Eh cavolo però Vedi perché dobbiamo giocarcelo Eh Delle persone che giocano In giapponese È un devasto Sennò È un devasto No è terribile È terribile Ma racconta che Cioè In un gioco semplice Come Pokémon Ci sono delle robe Complete Te la raccontai No quella del matrimonio Sì ma non ti dico Sekiro Non ti dico Sekiro Sekiro è un altro gioco Allora Io pensavo questo Comunque Dimmi E poi mi dirai Se Ti va Ok Intanto togli un secondo Il mio schermo Che metto la nostra password magica Assolutamente sì Ne parlavo l'altro giorno con Chiara Io Sekiro l'ho giocato Sì Ti ricordi lo giocai Praticamente Novembre 2020 Ottobre 2020 Sì Ci sta Ti mandavo i video Mi ricordo che ti avevo mandato il video Della fight Di Genichiro No No it Yes Però Ho schippato completamente tutto Non avevo tempo di leggere nulla A zero Cioè ho giocato a Sekiro Ti sei fatto un favore Visto quello che poi è il risultato Se lo fai Ah sì? Nel senso che non è assolutamente Una cosa brutta Ma Credo che sia Il limite dell'offensivo Per quello che è davvero Il significato della storia È quello che si nasconde Dietro le traduzioni Corrette Perché purtroppo Per fortuna A me la cosa mi affascina Ma giustamente Molto lontana da noi È talmente tanto Non integrato Ma Ramificato E Radicizzato Nella cultura giapponese Che ci è alieno E la traduzione Sembra essere Fatta Da chi è rimasto alieno Alla storia Ho capito Io Se vogliamo Ricciocarci Anche Sekiro Al termine di tutto Al termine anche di Bloodborne Io ci sto Guarda io credo che sia Io credo che possa uscire Un contenuto Molto speciale E un anticipo Di poco Quello che poi sono i contenuti Super peso Che farò tra Troppi anni Però sì Ok Ci sta Perché più che altro Cioè lo mettiamo alla fine Perché comunque è un titolo Che ho già giocato Sì 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 certo Mi ricordo È ancora fresco Magari non lo sarà Quando arriveremo a giocarlo Perché sarà tra due anni Però Non Cioè Non l'ho vissuto minimamente Con la profondità Con la quale sto vivendo Dark Souls Ma proprio Eh vabbè certo Certo Quindi Si potrebbe fa Comunque Quindi Posso mettere lo schermo? Puoi mettere lo schermo È il momento del teleporto Sono contento che abbiate il pene in mano Bella Sono contento Allora No assolutamente ragazzi Non ho fatto tutti i finali di Sekiro No Non sono neanche sicuro Di aver fatto tutti i boss No no ma infatti Lo ha giocato Come normalmente accade Quando non sei dentro il giro Giocato Messo da parte Fine Perché poi abbiamo cominciato Dark Souls Tra l'altro Tra l'altro Ho giocato velocemente Anzi no ricordo Perché l'ho giocato velocemente Perché è uscito Demons E Demons Mi ha preso un botto Di più di Sekiro Non è un caso Eh sì sì Mi ha preso un botto Di più di Sekiro Demons Soprattutto perché Remake poi era bellissimo Primo gioco PS5 E se vi ricordate Invece Demons Souls L'ho finito In ogni forma possibile Immaginabile Cioè Demons Ho fatto tutto Tendenza full nera Tendenza full bianca Finale 1 Finale 2 Il twink Ho fatto qualsiasi cosa Si potesse fare Con quel cazzo Di Demons Sì è vero Mamma mia che belle ore Sì Ho passato su Demons Souls Ok Allora Torniamo indietro Adesso la cosa che puoi fare Più comoda È teletrasportarti Al falo di Walnir Giusto hai ragione Ho saltato una piromanzia La leggiamo allora La prossima volta Ma sì esatto Ricordiamogliela Sekiro è più tecnico Secondo me rispetto a Demons Molto di più Perché viene dopo tanti anni Di esperienza di Tom Software Però come mood Come mood Mi è piaciuto molto di più Demons È comunque Molto più strano A livello grafico È una madonna Eh vabbè Vabbè anche Sekiro A livello grafico È una madonna Sì no Sekiro a livello estetico E grafico è meraviglioso Ma Demons Souls remake È una roba Ok Ok No No giusto Ci ho provato Hai tried Esatto No 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 Perché non me lo ricordavo davvero Non appaiono più i Gianfranchi No perché lui è morto Non li controlla più È la dimostrazione che li controlla lui No 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 Loro continuano ad apparire Perché comunque Magari sì Aveva sicuramente Aveva la capacità Di crearsi il suo esercito Ma la necromanzia Li ha risuscitate Come questo Come il segno oscuro Lo farà con te Però sì Mi sarebbe piaciuto È che probabilmente Avrebbe distrutto La mappa Ma a me Mi sarebbe piaciuto molto Che Che fossero poi Lasciati Che non ci fossero più Esatto Mi avrebbe stuzzicato È finita la plot armor Questa è la dimostrazione Che in questa puntata Si muore Un po' di katana Oggi ragazzi Un po' di ucci Allora Metto il segno Mi devo bracciare Ovviamente Perché l'ho buttata via Ha avuto un mancamento Sì sì Si è sentito male Proprio Colpa di pesce Se dopo lo ammazziamo Pezzo di merda Allora Aspetta che dovrebbe apparire Verso l'entrata Qui Alle tue spalle Eccolo È apparso È apparso Evviva Arriva P Andiamo P Abbiamo un conto in sospeso Con quel tizio Che ci tirava le frecce addosso Alla faccia Questo P non può dirlo Meglio Non dovrebbe poterlo dire Però Alla faccia Degli ombrelloni Di Anor Londo Di Dark Souls 1 Quelle sono Colossali Porca miseria Eccoci Allora Ma sei sceso parecchio Mio Dio Oh sono aggressivo Che palle Gli attacchi rallentati Niente 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 Non voglio sprecare Lestos Abbiamo stati invati Ah io Io stavo nel menu Pensavo che Pensavo che Gli scheletri Te ne occupassi Tu Mi hanno Ah no Io ho fatto Nigerunda Io Io ho fatto Il nigerundo Pi No ma che cazzo Sto facendo Io Questa cazzo Arma Il nigerundo Dalla vita Mi hai fatto fare Ok Sì 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 Ho fatto il nigerunda Io Ti chiedo scusa Beh È una risposta Ai Mimic Dai Allora 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 Sentite il farò La n parola Ovvero Il nigerunda Io Esatto Esatto Assolutamente Bannata da Twitch No Troppo preziosa No è vero Hai ragione Dai Uno 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 Mannaggia Gli invasori Si sono fatti Scaltri Giustamente Noi siamo Dei bastardi Oh Oh Eccolo lì Dov'è? L Ah puoi evocarmi Se vuoi Se riesci Aspetta 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 Questo è mio Ma quanta vita Ma quanta vita C'ha Pure Equilibrio Oh Fa come Fa come alcuni mob Eh Me ne devo Oh Boh Ottima risposta Mamma mia Ah Fregato Ah no Eh berrà anche lui forse No No prova a uccidermi Se ne pentirà Oh pelo Potevi finirlo Mannaggia Quelli Eh lo so Eh non ce la faccio Peccato L'ho ucciso due volte Ragazzi E' vero E' vero Le armi pesanti Sono Pericolose E' sblombiano Hai visto? C'era dello sbombo Bella schivata Mamma mia Attento Questa è stata Questa è stata Pericolosa Lo so Se vinco Godo Godo Mamma mia Bella Bella Così Questo è il pvp di Dark Souls Ormai ci vai Oh no Sei un coglione Tua madre Ti odia Ok Molto bene Sì 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 editi pure al falò E poi avvukat E poi avvukat Comunque bella fight Bella Se era uno dei nostri Bellissima fight Mi sono davvero divertito Eh sì ragazzi F insulta tutti Dovreste saperlo Ma voglia Però credo Oddio no Forse no Stavo per dire Credo non si sia curato apposta Alla fine Però no Forse aveva paura di bere Aveva paura Allora intanto Prendi questa E poi Grazie Oh Grazie Potrei abituarmi All'idea Di non uccidere Patch Che so se ogni volta Mi fa guadagnare così Eh ti sei tu presentato A me in quel modo Ok Ehi P Fermo Per forza Senti Il suono Quanto mi hai dato? 12k Bene Hai 10k? Ho altri 12 Consumali Bene Chi arriva in fondo A questa storia Senza mai perderli Prende anche quelli dell'altro Sei d'accordo? Stupendo Ci sto Molto bene Andiamo Qui Detto invece Molto più a Francesco Guarda che è la figata Della convergenza Che praticamente Hai il grande vuoto E hai salit fuse Sotto cartus E' vero E' vero E il fuoco del caos Ha fatto danni Allora Quel che ne rimane Lo vedo A destra ci siamo già stati Ma ti direi Facciamola comunque verso destra Ma certo Prendiamo però prima questo oggetto Un frammento grande di tita Buono Facciamo il circumnavigo Vuoi già darmi quei 12k? Se moriamo tutti e due Ovviamente Nessuno prende niente Se vinciamo tutti e due E' uguale Aia Qui ci siamo stati Qui c'era Oras Esatto Ai miei 12k C'è un granchio No Un granchio Del caos Ah 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 Paura Ah ma perché è proprio quella merda Che tira roba Quel granchio E' un granchio del caos Guardalo Si Va fuoco Ok 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 Nessun problema Nessun problema Abbiamo imparato A proteggiarli Equilibrio Yes Grande Stai a terra Voglio quei 12k Oh frammentini eh Ok stiamo Non dovremmo essere qui in linea di tira per fortuna No In teoria no Bravo bravo Attiralo qui Fantastico Vai vai lo stordisco Mettiti davanti Vado Bravissimo P Oh Hai visto che l'abbiamo fatto insieme Mamma mia Ehi P sento che siamo vicini a sviluppare un attacco di coppia Invero Sono d'accordo Ok Questa difesa funziona Oh yes Mio Yes Perfetto Mamma mia Questi avversari sono sempre molto mortali invece Ricordi quando non riuscivo a farlo? Perfettamente Sono migliorato No No C** Tuo Bella Bellissima E simpatici level designer Che hanno messo i granchi dove non puoi essere colpito dal Sì Stai attento Stessa pezza Ok l'ho preso con un cucrino Dovresti fare un attacco Forza Ok Oh arrivo Vai Yes Let's go finiamolo No Siamo dei coglioni Ti quasi morto Sto bene Oddio Oddio baby Ho perso 12 campo È stato Se non muori Se non muori Giusto Se non muoio Se non muoio Ok Ok È stato incredibile È stato incredibile Bellissimo P focus è P non è morto veramente per niente Esatto Oggi è P che ha la P armor Ha la P armor Esatto Magnifico Vuoi fare lo stesso percorso per essere sicuro di sugamare tutto Sì Nice Mamma mia Ti ha tre a botta Sì Sì a ritmo preciso Eh che cazzo Ho rollato finora Uh Uh Mm Eh Da soli È un po' più difficile Sì Ma non troppo Bravo Solo più lungo Bravissimo Easy 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 Arrabbiato Arrabbiato Mamma mia Mamma mia Mamma mia Arrabbiatissimo No Ho missato il colpo Cavolo Stronzo di merda No Porca miseria Ho atteso troppo stavolta E meno male che Raise Eh ma loro sono tosti eh Eh ok ma il primo l'ho affrontato proprio da dio Sono stato anche sfigato con i pattern Perché se facesse più volte pistola acqua Eh sì Una cazzata Devo triggerargli più volte il pistola acqua Forse devo giocare con la IA e devo andare indietro Ok bravo Io ho perso la scommessa Sono stato ucciso Hai perso? Che schifo che facciamo Mamma mia Lo sapevo io Sì sì lo banniamo adesso No no Marco No Ma che cosa? Beh grazie Hai sgamato un segreto esatto Worth it dai Grazie balista Adesso Devi far colpire lì Per Beh puoi anche solo far colpire lì Senza esserci tu Però Sì ecco Eh bene Ah Io Io faccio causa a mia zaghi stasera Eh ve lo dico Questa idea della balista non mi piace Oh mio dio Oh mio Oh mio dio Ah Vedo che è pieno di sorprese questo posto eh Non aveva qualcuno parlato di questa roba? Non credo Forse no Minchia è un demogorgone Ragazzi è mostruoso Sì È un verme fatto di carne E penso morti Esattamente Conosco forse delle facce Sì 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 Quindi è una pianta del caos Potremmo dire Una sorta Di Beh è La culla è un albero Sì 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 infatti Sì sì Un'amalgamazione creata dalla fiamma del caos Che però ancora è viva O forse dalla fiamma del caos E stagnazione Cioè la stagnazione Sì Ha generato questa roba A partire da qualcosa Che comunque vedeva i natali Dalla fiamma del caos Dalla culla del caos Ah le pillole gialle Ah sì Ah ecco Bravi ragazzi Sì sì Mi ricordavo Di aver letto il verme È vero è vero Le pillole gialle Bravissime Il verme precipitò nelle catacombe E prese residenza Sì Al centro della guardetta Ecco qua Avevo questo déjà vu del verme grande Ma l'avranno già nominato Fantastico ragazzi Eccolo qua No Non è una buona idea Oddio Forse sì Che fa Viene qui Non penso Ehm Non gli fa Come 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 Vuoi che ti evochi P? O vuoi che l'affronti io? Beh Io ti direi Prima se Vado Ok Dimmi tu dimmi tu Dipende Vuoi esplorare Vuoi affrontare il gigante? Allora Voglio esplorare Ma per esplorare Va clearato il posto E quindi Va bene Qui Qui niente più Qui Giocatela Io Michele Entro stasera Mi arrabbio forte Oddio 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 Zeus Michele Io entro stasera Faccio causa A Bandai Namco Rovino tutti i rapporti O ti fai fare causa A Bandai Namco Sì Allora Io ho trovato questo segreto Allora Non c'era niente Lì dietro Credo Intanto Ah beh Scendere è una cosa impegnata Sappilo Ok Dici tu Poi come risalgo Scendere è una cosa impegnata Te lo dico Hai ragione È una saggia scelta Ok Possino Diciamo che Il fatto che tu abbia fatto rompere una parete Ti permetterà di ottenere un piccolo segreto Quindi Cerca pareti È il verme solitario di Gwyn Worth it Vabbè la rotta Anello del nonoletto Pietra variegata Ok quindi abbiamo Gemma del caos e pietra variegata Da leggere C'è l'anello e la pietra variegata Ok Adesso Mi a prendere il ritmo Ah ma qui c'è Mario Bene Hai finito il muro muro Sì Ma quanto pare La sedia elettrica Qui sono sotto tiro però dalla balista mi sa Tu sei sempre sotto tiro Tranne forse nel foro Che ti portava a profondità Di sotto Eh però voglio uccidere il verme Ah prima di andare sotto Però devo prendere le pillole sì Prima di andare sotto Va bene Prendo il pillolame Sta cazzo Ok Sembra molto aggressivo Non gli faccio niente? No no non vedi gli HP Gli fai solo che No perché non c'è lo scudo? Ah ma mia come sei veloce Dai che magari ti prende anche un po' la balista Forse quella è una buona strategia Ehi balista Secondo me l'ha preso Ha sofferto Ah te la stai cavando in maniera molto E l'ha preso Molto Casalinga Ottimo Ah non pensavo facesse danno Ma come ho potuto pensare Non facesse danno Ok adesso lo devo concentrare Aia Ho finito le cure cazzo Via Ok 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 dai Prendilo prendilo Dai sono qui sono qui Prendi lui Me la stai cavando molto bene bravo Dai è quasi morto Ok ora arriva il fulminino Si gira No ok Via Prendi lui No no non prenderemi Prendi lui Arriva il balisto Ui Arriva il balisto Ui Arriva il balisto Ui Ok così prendo il tempo Con arriva il balisto Ui è morto Guarda che funziona Arriva il balisto Ui Arriva il balisto Ui No sono morto Però Ho ucciso anche il vero Hai sgamato i segreti Ma come Non ci credo Che la gente non in blind Non sia accorta di questa cosa Non ci credo ragazzi Lo dite per farmi Sentire intelligente Balista dama La balista toglie Esatto Wii Sports Balista E raga Eh Goober Quando monterai questa parte Mi raccomando Musichetta di Wii Sports Balista Esatto Arriva la balista Ui Arriva la balista Ui No È troppo balista Era il terzo balisto Non guardo mai Sono proprio stupido Ma com'è possibile Che io sia sottotiro Anche qui Sei sempre Sottotiro Andiamo a prendere Quell'oggetto Praticamente Correre non serve a nulla Devi rollarlo Devi rollarlo Sì Salvo che tu sia Davvero Perpendicolare Vada in direzione Apposta Scudo del Porco Del Desiderio Io credo Di aver trovato La cosa Che odio di più Esatto Stavo per dire Sono sicuro Che tu parli E ridi E giochi Ma secondo me Parte della tua anima Si sta corrompendo Ma guarda Io credo che Da solo Avrei già Chiesto la collab Al Masseo Perfetto Andiamo Solo questo livello L'avrei fatta Col Masseo Per sentirmi libero Credo che sarebbe stato content Io mi butto giù Perché di là c'è una nebbia Ah Ok Ok Cioè credo che sia L'avanti la nebbia Non te lo dico No E fai bene È stato al massimo Ossino Ok Allora a questo punto Puoi anche aspettare Ok Il tempo di prendermi Qualche ballista Nel culo E sono da te No Che bello Ah giusto è vero Comincia a leggere le cose Mentre aspetti Corretto bravi Me ne ero dimenticato Hai un miracolo Hai battuto uno dei tuoi fanarchi Bellissimo duello Non mi sono curato Perché ho visto che F Non lo faceva più No no ma F Non lo faceva più Perché le aveva finite Altrimenti si sarebbe curato Come un porto Però Bella fai Bella fai Allora Abbiamo preso Questo Pietra variegata L'anello della pietra variegata Le pietre sono il simbolo Di un vero cavaliere Quelle variegate Vengono date in dono A chi deve affrontare Un viaggio eterno Aumenta la quantità Di danni Da fuoco Fulmine Magia E oh por Oh Ok Non ti hanno lasciato tregua Ma che Ma che verso fai Ma che cosa sei Sei un piromante Ma Un po' stagnatino Un corvo piromante Tipo Usa la stessa piromanzia Di dunnel Tipo Ah Ah ok muoiono Gemma del caos E frammento di titano Ma che culo Allora Guarda Intanto Parleremo ovviamente Di queste creature Tempo al tempo Ora leggi pure Comunque assorbe Un fracco di roba Quell'anello Sì ed è Non lo hai riconosciuto Perché è molto secondario L'anello che indossa Zygmair Non l'avrei mai riconosciuto Dei veri cavalieri No Giusto E poi gemma del caos Una gemma di titanite infusa E ciò che resta Delle terre bruciate Dalla fiamma del caos Giusto E il miracolo Bravi Bravi Il miracolo del fulmine Miracolo perduto Degli ammazzadraghi Impala i nemici Con il potere del fulmine Questa storia Narra delle tecniche Degli antichi ammazzadraghi Essi scoprirono Che per perforare Le scaglie di drago È necessario colpire Con un fulmine diretto Come per impalarne La carne Quindi forse L'agglomerato di morti Era anche di Chissà Un tempo Cavaliere di Gwyn Beh Cioè Il fatto che il verme Lo sapesse usare Credo che Così fosse Per l'eredità Dovuta All'assorbimento Di tutti quei cadaveri E magari Delle loro abilità Quello che tu hai combattuto Poco fa Hai notato bene Utilizzava La tiromanzia di Dunnel Quindi Dunnel È stato qui I diaconi Di Isarith Sono loro Eh sì Giusto Mi hai detto dove andare? Scudo Bravi Grazie ragazzi Quando mi scordo Io ora sono arrivato Aspetta guarda Mi leggo anche lo scudino Ok ti metto il segno Dove sei sceso Vediamo Scudo di un antico re Consumato da una brama Insaziabile Inadatto a comandare La bramusia Residua del re Arde ancora in questo scudo Che aumenta la quantità Di anime ricevute Dai nemici sconfitti Equipaggia questo scudo Nella mano sinistra Per eseguire L'abilità dell'arma Nella mano destra Non riconosco questo scudo Ma sono i due draghi? Ti rico Sì È Drangleic Questo è lo scudo di Vendrick Ok Questo è proprio lo scudo di Vendrick Alcuni Alcuni dicono re di ferro Forse Però sembrano No Questo è lo scudo di re Vendrick Tra l'altro il desiderio Non era Il termine con cui ce l'avevano tutti i re Eh sì Certo Desiderio 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 Giusto Giusto Dai dai Carino Carino L'ha citato tante volte Dark Souls In realtà Aspetta che sono stato Sono stato educato Ok no Ho compiuto il mio dovere Perfetto Adesso metto il segno Lì sembra Qualcosa di strambo Adesso ci arriviamo Tu vai dove c'è la luce Vedi bravo Esatto Esatto Tra le macerie centrali Ho messo il mio segno Guarda verso l'alto Dove non c'è il tetto Che è da dove sei caduto Ah ok Allora aspetta Forse l'ho superato Esatto Penso di aver attirato Qualche altro ragazzo Forse no Eccoti Yes Io ho una Estus Porca di quella puttana Oh Stiamo attente Hai qualche decotto Per gradire Uh lumachina Sì lumachina Vabbè Lumachina Volevo dire lucertolina Ho detto lumachina Ti darò qualche decotto Oh un'altra gemma del caos F che dice di questo scudo Ma F non commenta più Prima commentava con sarcasmo Ma adesso vi confesso che ogni tanto F sfoglia il libro Sperando di poter predire il futuro Ma vi annuncio che oltre quello che si vede nella sigla F non legge Cioè non c'è scritto niente di quello che deve ancora fare La storia si ferma a lui e P che partono per Lothric Assolutamente Decotto di Sig Ok Ah tra l'altro aspetta Siccome parliamo di scudi Però quello scudo Com'è? 100 È molto buono Molto buono Ha tanta stabilità e durabilità E poi ti dà un bonus alle anime Poi ti dà un bonus alle anime Eh però lo sapevo È troppo questo Per ora no Plus tard Ragazzi sono crashato in chat In chat ma non in live Non in live no Hai presente quando ti fatti diamo il benvenuto alla chat? Ma come no? Ma certo Eh me l'ha fatto però Aspetta aspetta Sì Sono stati sgamati Sì Sei molto attento Aggressive Questi sono i crui Anche io Me li ricordo Nooo Muro di merda Sei dart mito Stai attento Sì Potrebbe attaccarci da un momento all'altro Questi vengono da Farron Sì Sono esattamente loro C'è una doppia strada in realtà Esatto Di qua e di là Vabbè facciamo prima questa stanza Però attenti ad art mito Frammento di tita Ah è una piccola pula del caos quella D'altronde i diaconi di Aizorith Qualcosa dovranno pulpegare no? O comunque nella loro crescita e invecchiamento Richiamano molto quello che è la genesi del caos Questo però non è un diacono È un altro gru Questo è un altro gru esatto Che sono piromanti effettivamente Usano il veleno Eh sì La puttana Si sono integrati con la popolazione di qui Tomo piromanzia di Aizorith Se ancora avessimo dubbi Guardalo Sembra un piromante Perché ha le bende in faccia Sì Però le ha rotte questa trasformazione Vedi? Le ha bucate Ha bucato le bende Credo che stessero provando una trasformazione Simil culla del caos Ma più controllata Perché hanno comunque delle radici in testa Sì E su queste radici sono cresciute anche dei fiori E guarda un po' Cioè trovare un tomo della piromanzia di Aizorith È un bel tuffo nel passato e nella curiosità Un tomo di piromanzia di qualcosa di antico Cioè le piromanzia di Aizorith sono leggendarie Ora le leggiamo Però guarda Davvero ancora una volta mi soffermerei su questo dettaglio Guarda come richiama molto la culla del caos Assolutamente Infatti Lui stava cercando Non dico tanto di Accendere una nuova fiamma No Certamente Credo Siano arrivati a cotanta ambizione dopo il fallimento di Aizorith Però Eh sono funghi è vero avete ragione Probabilmente sono proprio funghi Dicevo Però Ha tentato di Mi permetterete il termine un po' volgare Non in senso di parolaccia Ma in senso che è improprio Di trasformazione arborea Di power up arboreo Come Lo aveva involontariamente subito la stessa strega di Aizorith Cioè È un po' una Mutazione del corpo Guarda Le radici Tra l'altro Guardate questo dettaglio Le radici Si fondono al suo corpo E penetrano Il muro Quindi lui proprio Infatti questo Guardalo com'è È inginocchiato Non dà segni di vita Niente È andato È legnoso Sì È però è legnoso Guardalo Esatto Lo è Lo è Assolutamente Lo è Importante la risposta che dà Non è Non è Duro No no Bene Leggiamo Andiamo Ok Oh sì Leggi Leggi Tomino Tra l'altro Guarda È proprio È proprio E ci sono Anche le rune Della fiamma Del caos Sopra Tomo Sulla piromanzia Di Isalith Contenente Le piromanzia Delle streghe Portalo al vecchio maestro Piromante Ma minchia Lui si sbura Nelle mutagne Per apprendere le piromanzia di Isalith Le piromanzia del caos manipolano la lava e costituiscono la base di tutte le forme di piromanzia successive Verissimo Guardalo Dartmito Te lo ricordi Dartmito Benissimo Come sta andando Fermo Non andare Nella profondità Vabbè Lo ritroveremo Ok C'erano due strade abbiamo detto E questa è l'altra È proprio l'altra Sì sì Oh Non falò Intanto prezioso Sai che forse sono due strade allora Una qui e una sopra Ci sono due aree proprio distinte Potrebbe Due lame C'è l'invasore Eh quel segreto dai Se no mi azzachi veramente chiudevo il gioco Dai Bravo Eh proprio qua Avrei spento la console Oh 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 Blobbini Questo è un segreto importante Diventa invisibile Diventa invisibile Vorrà bene Vorrà bene Continua così Dove vuole andare A prendersi un backstab Lo blocco di qua E mo che fai? Ah sì Ah scappatula Io ero lì mi pazzi Antipatico In mezzo alle melme Ho per caso un seme no Attento Attento Stai attento Stai attento Sì sì Qui oppure vuoi esplorare il muro illusorio Decidi tu Il muro illusorio è questo Esatto ci siamo dentro Eh ok Ok Andiamo andiamo esploriamolo Dobbiamo sprintare allora Tutte quelle melme Sì sì hai ragione Inutile combatterle Scheggia di estrus Buono Oh mio dio No Sono caduto Sei caduto Ti seguo Ma qui ci sarà Dark Mito? Più o meno Probabilmente sì Ho pullato il mondo Sì lo so Oh ho sentito La sacchia piegliera Il uololololo Esatto Ho sentito L'ho sentito Il uololololo L'hai sentito Proprio come nell'anima oscura C'è proprio un intero Un intero paragrafo Del libro di F Che è uololololololol L'ho scritto altro Uh Praticamente Praticamente Le antiche preghiere E non solo Tu cadendo in quel buco Sei finito in una trappola Sì Era un'orda È vero Bella De preda corpo Ush Frammento grande della tita Aspetta aspetta Esploriamo bene Eh di sicuro Adesso sei caduto proprio in qualcosa Che ti confonde tantissimo La Mamma mia Mamma mia La topografia L'abirintico Eh qui ora sì Perché sei caduto Adesso non sa più dove sei Si può ritrovare La piccina delle scale Ok le scale Le scale sono un buon indizio Per capire dove siamo Eh premiamo a prenderle Salire è una buona idea Adesso sei caduto Infatti Ok Perfetto 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 Ricominciamo Muro illusorio Che era di qua Era questo Eh bravo sì Perché secondo me Altrimenti ci perdiamo È giusto Ah impossibile Uccidere Io la sprinterei Se neanche la tua forza Può farcela Ok questa è la mia agilità Bravo Cazzo P Bravo Bravo sì P di quella roba Ho letto nell'anima oscura Pare che Firenzo Li evitasse dopo che Cominciavano a divenire Semoventi Pur sembrando statue Ah sono Sputano fuoco Sono proprio Proprio come nel Smito è caduto Come un cretino Ha cercato di colpirmi Alle spalle P è tuo Magli incontro Sto andando Sto andando Oh cazzo Sento dei passi Dov'è Ma che cazzo No No non mi esplodere In faccia Ti prego Ecco Ah salve Guardalo Guardalo Ma no ma Mi ha spinto giù Tienilo occupato Per l'amor del cielo Oh no È arrivato Vabbè è stato il falò È qui eh Sto arrivando Scappa da lì Fuggi Ma come ha fatto A uccidermi così velocemente Eh attacchi di sbloombo Io devo Io Io Per fare i platformini magici Forse il fattaro Non è una buona idea Ma Tornerò da te Allora Anche se il salto È lo stesso Dartmito Ci vendicheremo Oh sì Se lo faremo Sì che lo faremo Era un po' Tortisiano Effettivamente Con le due Alame Sì È vero Poi Dartmito Fa proprio parte Della storia Eltre ortisi Ok What have you dropped Ok No 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 P quando vuoi Io sono qua Dove sei esattamente Oh guarda un po' Dove c'è un valoroso nemico Ok Sono molto curioso Di vedere Quello che potrei osservare In quest'area Chiacchiere Riamo a riguardo Ah Fattrollo Dev'è davvero Provare una pirriata Però non ho più bisogno Di dello scudo Per pirriare Non ce l'ho pensato Sono in un posto Molto speciale Vedo Ah sono due No ho cambiato idea Sul ferry Non mi metterò decisamente A perriare una lancia Non è una buona idea Porca troia Mi ha fatto full combo Proprio Tutta me l'ha fatta La combo Bra Frammento di titan Camerman wins Esatto ragazzi Le dual di farron Parano ma con un Tempismo completamente diverso Boh Niente basta per riare Aspetta che uso Il purpo Oh Strumenti utili Sempre da farron Sì Dove mi giro Quindi nonostante tutto il tempo Che è passato Queste statue di Isalith Queste creature Sono ancora lì Ma guarda 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 Che c'è Oh bravo Quanto tenevo Che tu potessi Finalmente notarlo Infatti ora sono Dove sei tu E cominciamo a parlarne Con l'arma Con l'arma Guarda È proprio È proprio Quell'arma Mi ricordo le radici È il demone capra È il demone capra Ce ne sono altri Sì Guarda Eccoli Bravo Sono proprio demoni capra Sono morti però Non credo siano stati uccisi Di recente No Eppure non si sono Decomposti Credo si siano Spenti Con la morte Della culla Del caos Molti Questi Questi cadaveri Allora Una cosa molto interessante Che mano a mano Che avanzeremo in questo luogo Diventerà sempre più esplicita È ciò Per la quale Ti ho preparato Durante Eyes of the Life in Dark Souls 1 Eccolo il mio segno Ossia Alla tua destra Ossia Che I demoni Erano una cultura Certo Non erano dei mostri In una grotta Erano una cultura E Una civiltà Una civiltà E quando La culla del caos E' stata distrutta E la fiamma del caos Si è spenta Quello che per loro era Una sorta di Faro Energetico Di vita Un po' come può essere Il fuoco Per Il tempo E l'era del fuoco E l'era O sua omonima Ha cominciato Ad lasciare il loro corpo Si sono piano piano Sempre più spenti Diventando appunto Pietra Lo dicevi anche tu E la loro terra È finita Nell'oblio Noi stiamo osservando Grazie alla convergenza Il culto Dei demoni E la civiltà Dei demoni Di Isarith Alla sua fine Giusto Allora Sotto ho visto Una stanza bellissima Con una statua Del demone toro Quindi proseguirei Prima qua Perché probabilmente Questa è una dead end Esploriamo O almeno lo spero Di sotto Sembra un avanti E anche con queste scale Si va di sotto Mamma mia ragazzi È gigantesco Questo posto Eh sì Aspetta Non andare via Cioè Adesso finiamo qui Mio dio Questo è un diacono Non si backstabba Dovrebbe potersi fare Eccolo Sì È un po' grosso Non ci riesco È ancora vivo Oh mio dio Ho preso il muro due volte Se lui è uno di quelli Che si è provato A trasformare Forse ci è riuscito anche Guarda lì Altro demone Quindi loro sono arrivati Alla fine della civiltà I Com'è che si chiamano I I I I I Sono arrivati alla fine Eh ma per forza Sono arrivati alla fine Perché questo luogo Non era qui un tempo Ha raggiunto Farron con la convergenza Poi certo Sono d'accordo Comunque con Dratera Mi ricorda Tanto le catacombe Di Cartas questo C'è proprio il level design Sì 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 Con queste scale È vero È vero Ma non è Siamo qui Sì Siamo qua Guarda 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 c'è un È il demone vagante È stato il demone vagante La vedi O addirittura Ti ricordi Del primo demone Stregone Bravo L'ultimo Stregone Del fuoco Guarda Fermo così Guarda che scene anime Guardala dal mio schermo È fantastica È fantastica P e F Che si affacciano Per capire Come assaltare Che meravigliare È figata La legione demoniaca Allora Mi stai body bloccando P Pessima strategia Sì Correre Mi sembra una buona idea Ok Ce le dividiamo Sì Arrivo Ah ma ce l'ho una mano Un contrattacco Mi sono preso Porca puttana Due Non preoccuparti Arrivo Tutti questi cast Sono molto più forti Della piromanzia Che possiamo usare noi Uno è morto Ok Molto presto due Yes Yes Dan nel pezzo di merda Che ha creato Sta roba super forte Guarda Allora Guardiamole un po' Ste statue Questo È un demone toro Più o meno Eh sì No è assolutamente Un demone toro Lo è proprio Manca il suo martello Poi Demone vagante Sì Proprio lui Sì È proprio il vagante Credo più che Il primo stregone Sì sì No è il vagante Esatto Anche se era comunque Una specie Uno o meglio Una razza Quindi Trammento della tita Oh guarda Qui c'è un corpo Molto grande Ho trovato una scheggia di Non morto Ne hai tipo tre Da bruciare adesso Guarda È un altro demone Però questa non è una statua È uno vero Esatto Ed è morto Loro sono diventati pietra Non li colpisco a caso ragazzi Li colpisco per capire Cosa sono diventati Esatto Loro non sono linei Loro sono proprio No Bravo Loro sono diventati pietra Post colata di lava Esatto Pietrificati Però guardate Non è una statua Guardate il dettaglio Della lingua rossa Si è solo pietrificato Ma era organico Ok Guardiamoci bene intorno Guarda però Il dettaglio delle tombe Esatto Come dicevi tu C'è una cultura dei demoni Ma li ha succeduti La gente si faceva seppellire Accanto alle statue dei demoni C'era un'adorazione Oserei dire Di questi demoni Non tanto solo una cultura Era un ultimo parlume Del divino dei lord Anche se sono Anche se sono stati Un incidente E Comunque Origine della piromanzia Al loro primo frutto C'è suo primo frutto Via Controlliamo bene i secreti Ma infatti Non mollare Non mollare E qui c'era la scheggia Quindi ci sta Che non ci sia nient'altro Sinceramente Di nulla Da qui siamo venuti Ebo Mannaggia al cazzo Che labirinto No No Oddio Vedo ragno Allora aspetta Piano piano Il mio cazzo Non ce la può fare Oggi Ma che cazzo succede Allora Buoni un attimo Qui c'è un ragno Quindi credo sia il cadavere Della fair lady Visto che Addirittura Dunnel era disperato Per lei E qui ci sono le piromanzia Di Dunnel Quindi la sua sposa È rimasta qui Quella è Quella è quella Facendo il muro muro Però l'abbiamo fatto di qua Quindi noi abbiamo fatto il muro muro di qua Pipiti 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 Questo dobbiamo vederlo Che cos'è Però mi sa che è sempre il di sopra È un altro di sopra del di sopra Esatto Mi sono spiegato molto bene Ok Quindi Il secondo di sopra È stato esplorato Non nulla di fatto Questo va visto Ok Oh calma Aia Ci possiamo arrivare Ah ma qui La vita a Rattopoli È un gran ballo Non credo che neanche Il miglior salto di F Possa farcela Nonostante Binocolerò Mi sta facendo cadere il binocolo Dio ragazzi Sei un po' borderline Mi piace Mi piace il rischio nella vita Io Vedendo nei buboni Ti dico che è proprio la Fairlane Credo che sia Onestamente Inconfondibile Nessuno può avere dubbi Dopo aver giocato Dark Souls Quindi Dunnel è tornato Cioè è tornato È andato Ariandel Dopo aver perso La Fairlane Dopo aver perso Ma forse ce la faccio No non ce la faccio È impossibile Anche perché Eeeh P È successo un problema Ti ho salvato almeno Oh Grazie P No P sei morto No scusami P Worth it Aspetta a dirmi che mi hai salvato Ti assicuro che Mi devo ancora salvare Oggi sono caduto Troppe volte Parete illusoria più avanti Vabbè secondo me da qui comunque si arriva la Fair In qualche modo Quindi devi cavartela bene con il level design Oggi sto giocando a Dark Souls 3 avendo in testa la main theme di Dark Souls 3 Ottimo Ci sono due vie Questo mi sa che era il ratto che vedevo da lontano all'altra parte Maremma ragazzi quanto cazzo è labirintico questo posto mi fa male la testa Lo so Non sei solo Qui sotto si scende ancora più giù Ma non è il momento di scendere ancora più giù Perché prima dovevamo fare l'exploro di quella stanza Quindi Finiamo quella stanza Proviamo a tornare su Lavopoli Oh shit Quello è tipo il cuore di Aizalit Lavopoli Senza un certo anello Mi sa che non si fa Però aspetta Qui c'è una stanza E la esploriamo Però poi dopo provo un saltino Topi Topo Via segreta più avanti Ok Letteralmente qui Un buco no Ok Questo era il ratto che vedevo effettivamente Siamo tornati qui Yes It was that No infatti non riuscirò mai a uscire di qui ragazzi Preparati Non credo ci fossero altre porte Ragno No c'è questa forse No questa è la fine della stanza Perfetto Sì sì allora possiamo andare a Rattopoli È la cosa giusta da fare Oh questa è un'altra strada ancora Oh mio dio Mi fa male la testa ragazzi È un'altra via segreta Sto male Questa è un'altra strada ancora No andiamo a Rattopoli Mamma mia Mamma mia Mi fa male il pisellino Ok questa è Rattopoli Giustamente c'è un ratto morto Quindi qui Sono entrato in questa stanza E ho trovato una via segreta Che era questa No c'era un messaggio Era questa Ah è per Lady Sì Qualcuno è morto accanto a lei Noi siamo stati invasi da Dunnel Sì Quindi potrebbe essere comunque Dunnel No Qualcuno che invade Invade Da un altro tempo Ma questo non è Dunnel Questo è il servo E el uolololololololololo Che stava con lei Tipo infetto Saito Dimmi tu che È quell'ana ho letto lo strumento non è una tua supposizione no in realtà c'è anche molto di più infatti ora bisogna fare una chiacchieratina quindi Quelana in ultimo si è riavvicinata a sua sorella bravo ricordi molto bene nonostante Dark Souls 1 si fosse allontanata da tutta la famiglia dalla perdita del controllo sulla fiamma e anzi aveva votato la sua esistenza ad avvisare gli altri piromanti di non fare scellerate scelte che li avrebbero portati a far la fine delle sue sorelle in ultimo è tornata da lei la storia di Quelana è molto ben nascosta ma tramite giapponese come al solito e soprattutto questo finale diventa incredibilmente concreta ossia è molto triste come storia perché Quelana era una piromante in quanto piromante chiaramente non aveva abbandonato la sua famiglia dopo la nascita del caos aveva avuto il tempo di apprendere le arti piromantiche e sfruttare anche appunto tempeste e bufere del caos era diventata una potente e importante entità di questa scuola chiamiamola di magia tribale qualcosa che poi lei ha condotto un po' come Prometeo al mondo degli uomini l'ha insegnato tuttavia come sai come ti raccontai in Dark Souls 1 come tanti non seppero all'epoca molto complessa come storia da capire senza certe traduzioni Gwyn attaccò Isalith e ci fu quella guerra e purtroppo fu quello il momento in cui il cuore di Quelana cedette e scappò vorrei canonizzare che in questo momento le parole di Michele sono l'anima oscura che sta leggendo F e che è seduto esattamente accanto a Quelana e sta leggendo mentre la guarda continua pure è meraviglioso ma vedi Quelana scappò ha cominciato a chiamare comunque arrogante la scelta di sua madre ha cominciato a creare questo racconto ma anche come hai scoperto dai dialoghi più completi e nascosti del personaggio a sentirsi in colpa profondamente in colpa di aver abbandonato al punto da chiederti di porre fine alle loro vite e ovviamente non di Quelana ma di porre fine alle vite delle ultime figlie connesse alla madre e all'insetto del caos il fatto è che da codarda che sia a quanto pare non resisteva all'idea di star comunque vicina alla sua famiglia perché dov'è Quelana in Dark Souls 1? ai bordi del dominio di Quelag esatto è al limite di quello che è il dominio di sua sorella di una delle sue sorelle non si allontana più di tanto il fatto è che comunque non riesce mai a entrare non riesce mai ad avere un rapporto neanche con la debole Quelana dopo che è morta Quelag quindi è una cosa drammatica qui trova forse anche il perdono per se stessa riavvicinandosi alla sorella il fatto è che la redenzione guarda il punto è che nonostante che nonostante tu potrai anche notare bene come questo luogo abbia poi subito altri attacchi altri agguati nonostante tutto il fatto che tu possa trovare il suo cadavere accanto alla Fair Lady in questo modo significa che non si non solo è tornata che ci sta è una cosa romantica e triste no no la vera vera interpretazione non headcanon di questa storia è che questa volta non è scappata è morta al fianco di quello che aveva creato la madre e che lei aveva ripudiato beh era comunque una delle sue sorelle questa volta non è scappata oltre al fatto che fosse lavata di Firenze è arrivato il momento di chiedersi tutti io tu Sabaccus Aydonia F possiamo scappare da quello che il nostro ruolo il nostro compito quell'ana non ha potuto nonostante tutto è morta dove è nata secondo me anche F troverà in questo libro il suo inizio e la sua fine quindi bel momento questo bello si oltre al fatto che comunque è un segreto è vero parete illusoria giusto? si abbiamo trovato con una doppia parete illusoria doppia come il grande vuoto bel momento davvero vai e giusto per aggiungere un dettaglio che però secondo me è molto importante qua ne parlai tanto in blind lo intuisci tramite level design tu vedi il ragno e dici ma aspetta dov'è? ok devo poterlo raggiungere ma ah ok muro in bellusoria si 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 tomo sulla piromanzia di Quelana contenente i suoi incantesimi unici possono essere insegnati solo da una maestra l'altro guarda il dettaglio e la sua veste bravo torno alla alla al libro vedi temevo di dovertelo dire invece bravo te lo ricordi avrò imparato qualcosa maestro fantastico adoro adoro io tutto questo lo devo imparare perché sennò come ti aiuto sarà incredibile portalo alla vecchia maestra piromante per apprendere le piromanzia di Isalith Quelana l'unica strega di Isalith sopravvissuta una volta prese con sé un discepolo umano ma certo me lo ricordo si chiamava Salaman questa mappa è un autentico labirinto però me la sto cavando anche troppo bene per i miei standard ragazzi e oggi il ritorno della katana ma ci sta è l'or che F usi un sacco di armi perché non è né firenzo né casandro è kirby ve l'ho già detto usa tutto scaglia di tita cazzo buona la scaglia di titanite non è quella che serve per fare lo spadone di farron si cioè per per livellare lo spadone di farron hai droppato la scaglia ok no era a terra credo ah ok non penso che droppino da questi cosi no ma infatti infatti ero lì a dire ok esatto si si bravo voglio qui si comincia ad avvicinare la possibilità di potenziare ne mancano due lo so perché c'è bramo quel momento con tutto me stesso mamma mia che burdel qua lì c'è un oggetto come lo piglio vatte la pesca però allora l'oggetto è qua e costi c'è un salto oh fammi provare a vedere se mi sta suggerendo di tornare su e cercare un buco non penso che qui ci sia un segreto ma magari qui si no ma magari qui si ah godo Miyazaki quando fai queste cose godo però non è quello in realtà mi sa che è una doppia parete doppia eh ragazzi abbiamo capito come ragiona quella è la scalinata dicevi quella è la scalinata che vedevi dall'assalto delle ranocchie brutte giusto antico catalizzatore utilizzato in tempi molto remoti dalla strega di Isalith e dalle sue figlie questo è il bastone che c'ha il demone no sì non mi ricordo male sì sì alla nascita della fiamma del caos le streghe divennero in parte anche sciamani le stregonerie lanciate con questo bastone che predilige la magia oscura dipendono anche dalla fede abilità canto del potere aumenta la potenza delle stregonerie per un breve periodo a prescindere dalla mano in cui è equipaggiato ma lo sciamano non era il tipo che abbiamo trovato al forte di farron lo aspetta il corvo sciamano gigante ah ma parli quello di draconico sì era uno sciamano o no sì ma non ha che fare con Isalith ok adesso possiamo fare il proseguo di qua ricordandoci che poi c'è un'altra strada ancora in via delle statue 237 stai andando bene stai andando bene stai trovando ciò che è importante trovare eh aspetta però quello è un cavaliere nero credo ah sei ah ok bravo ok però questo è secretopoli o è avantopoli credo sia secretopoli ragazzi non mi sa di avanti eh vabbè è qui non posso che affrontarlo come un vero uomo vero guerriero vero uomo vero guerriero considera che quando senti parlare di sciamani sono comunque piromanti perché la magia piromantica è tribale ricordatelo eh sì lo so sono tosti me lo merito non avevo estus e non l'ho perriato neanche una volta ci sta ci sta me lo merito a parte che qui è tutto esplorazio più che combattimenti sta parte è figa perché è tutta esplorazione allora per tornare dove ero devo andare a statuopoli che è di qua no sì invece si è lo shortcut qui tra mille virgolette il cadi cadi oh mio dio oh mio dio pessima idea non mi ricordavo di loro eravamo clearati porco il palle oh no devo scappare devo scappare devo scappare devo scappare e affrontarli non è assolutamente scelta saggia non devo andare a rattopoli non questa questa è rattopoli sì poi da rattopoli vado in via degli sbellecazzi eccoci qua poi vado in circonvallazione palle che cosa vuoi te la via segreta più avanti ma l'ho già vista me lo merito me lo merito sono una merda no ragazzi questo si fa perriando o succio le palle ma proprio evil cedonia mi so orientare allora dicevamo andiamo in allora già che sei stato sconfitto sì ti faccio trovare un secreto ok torna al falò ok è buono schialpalle dimmi tutto e vai dritto giù senza andare per la parete illusoria quindi mi butta di sotto qui? no 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 non devi andare per la parete illusoria ah perché questa era una parete illusoria non mi ricordo più cosa era qui vai giù vai giù prosegui 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 dritto vai 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 dritto come una spada esatto qui poi a destra prosegui dritto verso il percorso base continuo a destra tutto supera i cadaveri esatto via degli ammassini ecco qui stai un po' attento fermati guarda un po' la tua sinistra adesso c'è un po' di casino i ragazzi sono agitati sono un po' agitati qui? si ah ce n'è un altro stanno combattendo in realtà si cazzo ma io non ho preso le anime questo non lo posso perriare porca puttana ho perso 47k no no tranquillo questo è un segreto a cui ti ho portato io torna lì le anime fanno parte dell'esploratio sono il dono diciamo animico della run non preoccuparti questo è un questo queste sono anime di lore tornano io ero convinto che ci fosse tipo non lo so una casa una casa un cavaliere nero anzi a tal proposito decisamente non mi metterò a perriarlo arrabbiato scherzavo no sono chiuso sono chiuso il muro ma che cazzo ho aperto vabbè il lupo perde il pelo ma non il perri ragazzi ma questo è P sì devo evocarti perché no spada del cavaliere nero eh sì d'altronde i cavaliere neri sono gli spiriti erranti ormai ecco perché mi hai portato qua aspetta P però fatti evocare dopo quel cavaliere ok ma certo quella è la sfida proprio di F mi sento abbastanza carico se non ho roba addosso vabbè ce la posso fare ok ora ho molto da perdere posso andare oddio ma queste c'erano prima le ho viste proprio sì comunque questa era un'altra strada ancora da controllare infatti perché avevamo subito preso con dart mito dell'usino ma dov'è lolololololo chi è che lolololola chi è che lolololola c'è il paloino e qui no aspetta non qui eee dove cazzo sono finita no ah eccola qua porca troia ma ragazzi ma ragazzi il maestro non mi deve rimborsare di niente sono morto io io gli rimborso i 40k non altro ma no ma no ma perché sono morto io ma è stata una mia direzione non ho capito io non sono pronto a morire se mi dici di andare in un posto no 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 quelle tornano altre no quelle si no 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 non lo ritengo giusto allora allora faremo una scommessa che vale 40k esatto la scommessa è che devo battere perriando quel cavaliere perfetto però a questo try va bene ora devo solo orientarmi questa è la vera scommessa per un attimo avevo sbloccato l'istinto dell'orientamento decente non altro non è che era un super orientamento era un orientamento da normo persona però poi vabbè no no come prova salto no non è sbagliato no no lo scudo mi fanno riposte i ratti muoio 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 mi butto mi butto cosa sta succedendo ragazzi stava andando tutto così bene cosa è successo negli ultimi 10 minuti top allora allora va bene va bene va bene va bene successo è successo ragazzi è successo se può fare se può fare vabbè questo non vale e non è un try no che non vale il cavaliere è ovvio che non vale allora la scommessa del maestro è che devo riuscire a farcela al primo try contro il cavaliere non contro i ratti sono stato ratti oh ragazzi mi sono rotto il cazzo di perdermi eh perso completamente tutto l'orientamento in 5 minuti allora basta basta non è qui allora è dall'altra parte no dove c'è dove stai cercando si 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 la è la strada per il secreto che hai trovato scopido a francesco no questo è un luogo abbastanza raccapricciante si ho capito però via dell'estate giusto via dell'estate 40 poi ora si va in via dei rattini 37 i rattini 37 eccola qua i rattini 37 poi in via degli arboreschi 2 è questa e poi in circonvalla nella circonvalla che non è questa però la circonvalla ci convalla di qua no si no no qui è lavopoli no convalla un nebbio a parte ora bisogna no lì c'è via delle statue e bisogna ripigli alle anime che erano qua eccoci ma qui si va di qua no non va bene qui perché mi sto no ragazzi di nuovo oh no it's them again ma io non ho saltato qua mi sto perdendo a strada mi sa no esatto semplicemente era qua ha fatto che facevi il giro esatto ok poi qui no qui si fa lo short il segreto ecco qui in via dei buttini 7 in piazza del perry si 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 giusto giusto piazza del perry no piazza del perry 37 dove si trova guarda ti do ti do una scelta dimmi fermati qua un secondo si preferisci come scommessa questa qui in cui sai cosa ti aspetta e devi cercare di fare quei perry oppure nell'area in cui ti trovi oppure nell'area in cui ti troverai a breve ossia tornando qui una scommessa a sorpresa che si trova e puoi realizzare dove ti trovi lì quando torni va bene la sfida sorpresa va bene ma adesso devo riuscire a non tiltare sono proprio nel tilto max ma proprio è arrivato da un momento alla sono stato in controllo del gameplay per tre ore e ora sto tiltando come una merda non ti preoccupare fa parte dell'avventura della vita questo è l'effetto all'aguardente per entrambi no no devi scendere la scala hai voluto la scommessa hai voluto la scommessa ah prima questa scommessa ok esatto fermo questa strada in realtà non l'avevi mai percorsa eh no infatti è un avanti credo e la scommessa è solo una non morire vai avanti ok non morire si di nuovo lui stavolta non è un'invasione è lui è proprio lui stavia no 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 ok questa è persa si switch al perry del cavaliere no non funziona così eh ma io sono un maestro benevolo ma non è vero ma vai a cagare pezzo di merda ma va bastardo guarda anche il jet ma vaffanculo vai ma vaffanculo pezzo di merda non rimane stunnato dal cazzo di attacco di merda non è vero non è vero ok così si fa godurio di palle ragazzi spadone pesante della nebbia e scudo di ferro e mi sono meritato 40k mi sono shottato letteralmente tutte l'estos l'ho fatto no cure spadone pesante della nebbia e scudo di ferro nero ma quindi era un bereniker lui? lui era un bereniker però prima di tutto un collezionista di reliquie aveva la spada del cavaliere della nebbia anche questo è un personaggio che vuole richiamare molto dark souls 2 per esempio i tombaroli i personaggi con set misti lui è qualcuno anche probabilmente mandato da lothric per prendere le reliquie delle terre dei lord perché ha tutte cose uniche tutte cose preziosissime devo leggere un po' di cose ragazzi ma prima finiamo quello che è iniziato qua esatto non posso fare il chad non ho cure non posso parare ho già chaddato con lui devo solo sopravvivere un bel dexter per buttarlo nella lava sono che non è una cosa che ti consiglio di fare ok siiii grande è ancora vivo? eh beh i cavaliari neri la lava sono molto amici dove sei ? dov'è? non è morto non è morto non mi ha dato le anime credo cavolo non è morto switcher mare vado a prenderlo Sarà comunque, lo prende danno da caduta, no? Beh sì, forza Ah, è caduto dove era Zorig Non è caduto nella lava, ok Vabbè È caduto dove era Zorig Ok, ok Eh, devo solo trovare la strada e non farmi chiudere da questi cosi Molto difficile in realtà In quanto qui è Malediziopoli Sono andato troppo avanti È caduto sul pavimento, eh vabbè Noi gli diamo Il ben servito Dobbiamo solo stare attenti che non ci ambushi il pezzo di cazzo Non so dove si trova Eccolo là Ok, ha preso una bella botta però No, 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 la doppia fight così no però Dove è morto il tuo amico? Non ci posso credere Mi sta ancora inseguendo il cazzo di mostro Cavolo Non è una buona idea Crepa Mo' mi ammazza lui Sarebbe scenico, eh To save the list Gli abbiamo dato il ben goduto Sì Molto bene Mamma mia Ok, dai, abbiamo recuperato il ciaddometro Il ciaddometro segnava meno un miliardo Adesso è tornato Adesso è tornato Dai, momento tiltino C'è stato il momento tiltino Ce lo siamo goduti Devo leggere un po' di roba ragazzi Ma alla prossima pausa Sì, sì, no, esatto Devi leggere un po' di roba E poi io ti passerò un oggetto Che si può trovare nella lava Ma che io ancora non posso prendere perché non ho l'anello Non hai l'anello se esiste O comunque non hai un setup di difesa lavica abbastanza utile a livello parametrico Anche se c'è qualche trucchettino che ti permetterebbe di raggiungerli comunque Per ora te li passa a pagare Che essendo il tank della storia Va a prenderli lui Esattamente Snakey Ma manca ancora una strada da esplorare Dove cazzo sta andando? Ah, ah, ah Torna poi indietro Guardati bene intorno Hai vinto le battaglie Ma non farti distrarre dalla foga A metà strada di questa scala c'è un oggetto Eccolo là È vero Ah Ok dobbiamo decisamente fermarci al Oddio Ragazzi se non trovo un falò Io mi metto a piangere Questa è stata abbastanza drammatica Questo è stato un momento drammatico Sento la balestra Cioè la balista No mi chiapa la balista e muoio Mi metto a piangere ragazzi Piango in diretta Sento il rumore della balista ragazzi No il decotto me lo ficco su periculo Non ce l'ho il decotto Ce l'ho davvero Ho un decotto di P Oh mamma mia P Adesso posso prendere comunque un colpo della balista e morire Dove cazzo è la balista? Quando la vedrò sarà troppo tardi Vabbè Andiamo Eccola la vedo Allora qui c'è una strada e la piglio No non era una strada E la balista mi vede Ok Dietro l'albero dietro l'albero Dietro l'albero dietro l'albero Le bone will Holy fuck Si sei sei in una situazione un po' Opinabile Tortisio modo No è l'unico modo il tortisio modo qui ragazzi Yes Non fanno il reacto Ok ok Hanno fatto il reacto Mostratemi la strada E credo sia quella banalmente Ok Perfetto appena finito balistomon No non credo sia una strada Questa è una strada La balista non può balistarmi qui Evaristo il balisto non può Osso del ritorno Ok Cosa avranno voluto dire Cosa? Con un osso del ritorno Vattene via Ora c'è un boss tipo Le bone will Altri scheletri Andiamo prima a bone will ovuli Ok Altri bone will Sono arrabbiate Ok vieni bravissimo Ma sono lentissime dai Eh non sono più quelle di una volta Sono l'ombra di loro stesse Vanno comunque affrontate con la testa però Sì 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 Prima dovevi essere super preciso Perché nella loro traiettoria Erano dei fulmini Sì esatto La balista dovrebbe essere esattamente qua sopra Quindi non dovrei essere sotto tiro No Ok Ok Andiamo prima in via dei bone will Delle rotine 37 Anche qui Secreto Is il segreto possibile No Non c'è niente in via dei bone will Non ci credo Eh però Praticamente era una trappola Se tu non avessi notato le bone will In via dei bone will Non c'è niente Ragazzi vi ricordo che una hit è meglio eh Ma è quando F Da il meglio di sé Cioè passiamo da tiltare a Vabbè stiamo facendo questa cosa Senza prendere una hit Ragazzi non abbiamo preso una hit Da quando siamo qui Esatto Quegli scherzi stanno guardando Un po' imbambolati Eh ma perché Allora Vuoi sapere cosa penso? Che qualcosa romperà quel muro Ha Perché stanno guardando lì Però non voglio scoprire che cos'è Ok Perfetto Sì 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 Tu 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 Proprio tu Sì Dai Facciamo la luce Facciamo la luce Vieni a fare la luce Ok tocca a me Vai Vai tocca a me Oh questo eh Francesco Pardini mi ha insegnato A aspettare il mio turno E l'ho fatto eh Capito coglione Sicuro sicuro esplode qualcosa là dietro Invece no Ok Questa era la tua mossa Adesso tocca a me Doppio taglio Andiamo Guarda Doppio smash Pallinbolg Ecco qua Stub di tipo palle Ciao Ok ora cosa esplode da lì È il momento di osservare attentamente Col cazzo Ah no Forse stanno guardando questo Esatto Ma che cos'è il ponte No Cos'è la È la È la chiesa delle profondità C'è la cattedrale No Neanche Guarda il cielo È la valle boreale È la valle boreale Ok però possiamo disattivare finalmente quella merda Sì sì è la valle boreale È palesemente la valle boreale per via del cielo È che non vedevo la neve Quindi ho pensato Ok ragazzi questa è la sfida Quei cosi lì Non far sittare da quei cosi lì È veramente una madonna Devo aggrarli insieme Questa è la prima cosa Poi vediamo Ok Sì sì Proprio tu Eh qua tra l'altro lo shuttle Lo scudo me lo posso ficcare nel culo Lo uso comunque perché riduce i danni Arriva Uno Due Tre No Hola 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 focus Hola focus Ok 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 Grande Nedo il depredo E ora E ora che fo E ora che fo Niente ragazzi Io ho letto un commento Quattro di vita Anche a quest'ora Certe cose ti destabilizzano E ora che fo E ora che mi invento E ora Non hai nulla No Niente Non ho braci Non ho niente Ok però lui è andato Ok Ho un'idea Dobbiamo essere astuti Empowerati da qualsiasi cosa Io madonna Mamma mia Stai facendo Aspetta che si giri di nuovo Devo sperare che non finisca sto cazzo di miracolo di merda Non dura molto è già finito Lo vedo lo vedo No Non ho fatto il backstab Sono in fatrol No Sei in fatrol Attenti coltelli Comunque vado è stato incredibile È stata incredibile Eh ragazzi io in questo Dark Souls 3 Ho un problema continuo A beccare i backstab Minchia ma è affanculo rispetto a dove devo andare No adesso Puoi comunque andarci abbastanza lineare Sì Senza magari usare 40 Estus Da solo Ragazzi il miracolo non penso di avere abbastanza fede L'avevamo già provato l'altra volta Dai Ne hai per quello base credo Ma se non sbaglio invece avevamo fatto già questo discorso Ah sì Ho un ricordo riguardo sì Sì ora sono in fat Ho provato la chaderia ragazzi ma No 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 Sto stanza è veramente Ragazzi la possiamo piantare in chat di GM no No gli unici boss validi di Dark Souls 2 Non sono Sif e Ornstein con Smo Mentre Dark Souls 2 ha molti più boss validi di Dark Souls 2 No 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 Non sono quelle cose da confutare No Dark Souls 1 Unici boss validi Sif e Ornstein e Smo Proprio L'anello Mi stai suggerendo questo L'anello per Colpi consecutivi Ne avrei anche fatti di vero Quello potrebbe aiutare ma Non ti avrebbe salvato Forse nemmeno da quel coltello Ah Ah ma il Cavaliere Nero è poppa Certo è un mostro Ah Sì sì non è unico Molto bene Volevo fare il calcetto ma A quanto pare anche questa è un'azione che In questo gioco Non mi vuole riuscire particolarmente Mamma mia Mamma mia Eh si va Si va ragazzi A perdere altri 30k Io 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 Quest'area Un pochino la odio Io quest'area Un pochino la odio È quasi finita Io quest'area Un pochino la odio Io Cioè inizia così Con questi cessi Che ti tirano la merda Ma è difficile questo posto O sono io e faccio schifo No no è opzionale È molto difficile È tutto opzionale? Assolutamente Io parlavo proprio della mappa No è tutto opzionale Tutto il lago ardente è opzionale Ah proprio Isalit? Sì sì Ah Non pensavo sinceramente Eh sì Diciamo che non è il posto dove troveresti un Lord of Cinder questo Quindi è opzionale No vabbè questo certo Questo me lo aspettavo effettivamente Però pensavo ci fosse magari da prendere uno strumento utile Alla fine Al fine della storia Eh no ma mi fa Mi fa piacere poterti dire che è proprio una gigantesca area opzionale Ok ok Quindi stiamo facendo Sì Della Chadness comunque Assolutamente sì Assolutamente sì Assolutamente sì E niente lui persiste No lui persiste come nemmeno il segno oscuro Sì sì La vera maledizione è lui No sei vivo L'altro è vero se non ti accorgi del ponte non ci arriverai mai Ho capito perché ho perso Ho capito perché ho perso Che dovevo fare questo Capito perché ho perso Che perriando Si vince easy Ho stigato Ho stigato La brace Ragazzi è l'or Ragazzi è l'or Mamma mia Perriando lo ha dato la brace Perriando lo ha dato la brace Perriando lo ha dato la brace Perfetto Questa puntata è incredibile È l'or pura Canon Canon Comunque mamma mia Una puntata più bella dell'altra ultimamente Guarda che questa Tra l'altro non la lasceremo Con tutta l'aria non finita E sarà bellissimo Anzi anzi Chicche non mancheranno ancora Siamo vicini al tutto Non credo che le Boom wheel mi aggri no? Se vado qua No se ti muovi bene no Invece le sento Mi sa Eccole Una Una sola Esatto esatto Easy Sash bone wheel ragazzi Cazzato nero Li aggra tutti e due Arrabbiatissimo F Mi ne frega più niente Di rispettare le sacre regole dell'aggro Guarda lì Guarda lì La premiata chadderia Guarda guarda Eh La premiata chadderia Ok Adesso abbiamo 8 estus E tante palle Ehi Mario Vieni vieni Dai Senza scudi Come piace a te Non credo proprio Pillola gialla E frammento di tita Sì questi sono nemici veramente belli Sono d'accordo ragazzi Sono veramente incredibili Attenzione che la balista potrebbe prendermi Succhia il palè Mamma mia ragazzi Che cazzo di chadderia sono Bella questa Ragazzi oggi ho alternato Tilting A chadding Puro Ho fatto just tilting E just chadding In una sola live Assolutamente Ragazzi Spam df Spam df Qui ci stava proprio Spam df Necessario Oserei dire Bravi Così vi riconosco Bravi Legione df Lore È la convergenza Te l'ho detto Tutto viene assorbito Esatto Oh mio dio C'è un gigante Sì Beh Chi poteva mai operare In una macchina del genere Eh ma ora gli faccio il sesso Infatti Petrifui Diceva qualcosa Leggi messaggio Ah amico È morto Eh sì Non può essere morto adesso No Quindi ce n'erano vari Che lo azionavano E ora ce n'è uno dentro Forse No Vediamo Forse là su No Non la manovra nessuno A meno che mi stia sfuggendo la plancia di comando No no Non la manovra nessuno Cos'è magica? È automatizzata Sì È a ricerca E mo la fermiamo E mo la fermiamo E mo la fermiamo Che resta cazzo di leva Oh vabbè Basta Ba basta Quindi possiamo tornare Quindi possiamo tornare Indietro adesso Possiamo ossare Possiamo Anche trovare un modo Ecco Senza ossare L'ho visto L'ho visto in realtà C'è un buttino Sì Sì diciamo di sì E dargli tutti i tomi che hai trovato Va bene Vado a piccolopoli Che oggetto mi sono perso ragazzi A parte quello che ti devo donare Penso nessuno Credo anch'io Di importante Però sentiamo cosa hanno da dire Ah Mamma mia Che ne posso dare 40 Due in realtà Perché il terzo Non gliel'abbiamo potuto dare Comincio da Isalith Ah Devo anche leggere La conosce Quello di quell'Ana L'abbiamo letto? Sì Forse no Ah beh sì Certo che l'abbiamo letto Allora aspetta Che mi viene l'ansia Di dare le cose ai vendor Senza averle prima lette Allora Noi abbiamo trovato La spada Lo spadone di Giorgio Eccolo qua Contro questo spadone Il più pesante Della sua classe Assomiglia Questo contorto Perdonatemi Questo contorto L'ora si fa sentire Questo contorto spadone Il più pesante Della sua classe Assomigliano alla stranera Si dice che in passato Si è appartenuto A un traditore Ma il suo peso Lo rese inutilizzabile Ora non è nient'altro Che una reliquia Dimenticata Sposta il peso in avanti Con un affondo Poi esegue un devastante Tappotente Quello che fa lui Il scudo Invece Codeste Vero? Scudo in ferro nero Associato al terrificante Nome di Zorig Glambazza cavalieri Il ferro nero Il ferro nero Offre eccellente protezione In particolare Contro il fuoco E c'è l'attacco Con scudo Poi Abbiamo anche droppato La spada Questa è importante Del cavaliere nero Spadone dei cavalieri neri Che vagano per il mondo Pensato per la lotta Contro i demoni Del caos L'attacco E della battaglia A cui facevi riferimento Proprio tu Ormai qualche ora fa L'attacco speciale Di questo spadone Sbilancia pesantemente Il nemico I cavalieri Dovettero infatti Affrontare nemici Di dimensioni enormi Ovvero Demoni Leva la spada Nel nome del primo signore Con persistenza Potenziando temporaneamente L'equilibrio Riducendo i danni subiti Quindi il ricordo di Gwyn Li rende più forti Eh? Maestro? Sono qui Ah ok ok Pensavo fossi capito No no ho detto sì È bellissimo Proprio il pensiero Che lui venga chiamato Il primo signore Cioè è qualcosa Di molto lontano ormai È il primo lord Sì È proprio letteralmente Il primo lord Arco lungo Dei cavalca draghi Servitori del re del desiderio Ah questi invece Sono quelli Il re di ferro Allora Sono i dragon Gli ombrellari Gli ombrellari Non sono gli ombrellari Del re di ferro? Fammi vedere lo sprite Nel mio schermo E dice re del desiderio E re del desiderio Vendrick Appunto Non c'erano gli ombrellari Del re di ferro Che aiutavano Che erano milizia di Vendrick Messa in Messa a disposizione Non ricordo male io Allora Allora Sì Ma quello è l'arco Dei dragon rider Che Di cui hai trovato Un esempio Nella combo Boss Del dragon rider Con la lancia Con la lancia E con l'arco Sopra Il tesoro Sopra Accanto a Shandra Vero Vero I cavalca draghi Erano la guardia reale Del re Dovevano possedere Una forza immensa Per poter tendere La corda di questo arco Chi ci riesce Però Ottiene effetti Devastanti Perforazione Perforazione Non mi interessa Non abbiamo altro Possiamo consegnare Il tomo Ah Qui lì è vero Erano i capitani Di Alonne Bravi Questa inscrizione Riede Quellana Il deito antico Uno dei Dei Di Isoleth Oh Il ultimo Dei 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 Quindi Neanche questo Devo trovare Una piromante Mi sta suggerendo Questo Carino Vediamole un po' Queste piromanzie Di Isoleth Almeno Non è questa Eccole qua Questa è sicuramente Una e questa è L'altra Ok Sfera del caos Maggiore Tecnica derivata Dalla fiamma Del caos Di Isoleth Scaglia un'enorme Sfera del caos La fiamma caotica Emette un'ondata Di lava Fusa all'impatto E può fondere Persino la roccia Le strighe di Isoleth Diedero vita Dalla fiamma Del caos Dalla quale Furono infine Consumate Infatti Quando utilizzavi Le piromanzie Del caos Lasciavi Della lava A terra Perché significava Che stavi sciogliendo La roccia Tecnica derivata Dalla fiamma Del caos Di Isoleth Tutta l'area La fiamma caotica Emette un'ondata Di lava Fusa all'impatto E può fondere Persino la roccia La fiamma Del caos Che tutto consuma Portò alla nascita Delle creature Corrotte Note Come demoni Qui si È semplicemente Un revival Di idee Che già conosciamo Ovvero È un revival Di tutto ciò Che ha rappresentato Isoleth Già in DS1 Non abbiamo altro Da fare Però possiamo provare A parlare Questa è una roba nuova Forse No forse no Non me lo ricordo No forse è nuova Decisamente nuova Dai Addirittura Capito Che dialoghini Beh certo Lui giustamente Si chiede Controllare la fiamma Quanto è pericoloso Solo la fiamma Del caos È pericolosa Oppure persino Il nostro semplice Accendere un falò Potenziare un falò Bruciarci dentro Le ossa Potenziare la fiamma Può essere pericoloso E mandarla fuori controllo Ma la verità Se vogliamo È che Cornix Ha già ragione Non serve vedere poi Tutto il lavoro Innaturale Attorno alla fiamma Portato Al segno scuro L'oscurità Che non frisce bene La stagnazione Quindi ha ragione Bene Allora Fatto questo Torna pure All'entrata Della guardente Ora che hai Completato L'area Superiore Ti faccio Arrivare In quel percorso In maniera Più Smart Adesso Diciamo Ci sei Non trovo È sempre Nelle catacombe Di Carthas No Beh Allora C'è un falò Letteralmente accanto No Al lago No Allora Quelli che hai acceso Non è proprio Accanto Però sì Bella lì E c'ho anche C'ho anche una Estus in più Se non sbaglio Abbiamo trovato Anche una scheggia Vero Una sola Se non sbaglio Ma vediamo Sì Scusate Ok Se 10 1 Va bene Oh Tomba abbandonata Forse È una Sì Non è male Quello comunque È l'entrata Pog Allora Ci siamo No Questo forse È più lontano Ah La tomba abbandonata Non è giusto È giusto È giusto Ok Ok per fortuna Vai dritto Come una spada Vado La tomba abbandonata Sì esatto La tomba tier 3 È nel gruppo telegram Ok Godimento Allora Non avvicinarti C'è lo stesso simbolo Oltre la porta C'è oltre il calice È identico Sì Allora Vai a destra qui A destra Volevo controllare Chi ci fosse Tranquillo Tranquillo Ci sei Ci sei Ah va bene Ma c'è semplicemente Una stradina qui Esatto Buono Oh no Uh Esatto Uh Il go di me C'è P? No 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 P in realtà A questo punto Sta bene che sia In canon Ma non Zorig Ma te ne fanno il culo Scusa No Non vuoi evocare Zorig Ma guarda per me Fa il ciuccio Allora Dove sono? Nel percorso che volevi esplorare Che volevo fare Era esattamente Il percorso che volevo fare Adesso Siediti al falò Ok quindi abbiamo esplorato bene Non è stato semplice Esattamente Bene Vado Allora Vai E A questo punto Ti do un consiglio Per una chic Visto Che hai letto Quella descrizione Sul guardiano Il piromante E così via Evoca Quel personaggio Che hai visto lì La grande palude Si chiama Cuculus Esatto Cuculus Che tra l'altro Potrebbe essere La piromante Che mi potrebbe insegnare Le altre piromanzie Lui ha parlato Di una piromante donna Magari si legge anche Il tomo Di Wolnir E non si fa Troppi problemi Dove vai Cuculus Andiamo Chiedini Chiedini Binocchio Ah Corpi ammassati Ho una pessima sensazione Quello è un gru No è un demone Vecchio re demone Cuccheri L'adoratore ultimo Aia Porca di quella puttana Quanto pesta Se muore succede qualcosa Sì Dovrai Dovrai ricominciare Ah Porca miseria Perché lei sta prendendo Delle botte clamorose Se io per andarle dietro Ne sto prendendo ancora di più Stai ferma Culus Per favore Non ti sin Non ti sin Culus Culus Porca della miseria Ci stai da parte E niente Eh si muore Beh intanto esplora Lo scontro Cioè io devo fargli Tutto quel danno Prima che muoia lei È una idea Ma si potrebbe fare Insieme a Pissi Una volta che Conosci il boss Molto bene Non prima Ci riprovo? Ma certo Ci riprovi Vecchio re demone Dunque questo era il capo Delle legioni demoniache Un adoratore Che è riuscito Nella trasmutazione Nella demonificazione Di se stesso Beh nessuno Ha mai parlato Di demonificazione Di se stesso E infatti E infatti Per quello ti dico Che la cosa più probabile È che È qualcos'altro È che fosse proprio Un capo dei demoni Vecchio re demone Ho zero braccio adesso Ah merda Ah merda Zero braccio adesso Hai zero braccio E Hai zero bracci Mi faccio evocare da te Sì Barra mi faccio evocare da qualcuno E se qualcuno mi evoca Mi passi delle bracci Il concetto è un po' quello Adesso 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 Hai Compra il segno bianco Forse non l'hai mai comprato Vada Fatti Metti quello rosso Metti quello rosso Cambia poco Tanto poi Puoi utilizzare il cristallo Se vicino al fondo Dicono che le vende Patches Eh però ce le ho le anime Vediamo Yes Ah ok a posto Perfetto Vado qua c'è Islandia Però ti ho trovato se vuoi Quindi se vuoi No no Ok Aspetta Cosa faccio Quante volte devo caricare Se mi prendi su Aspetta Ti prendo Ti passo un po' di bracci E via Oddio Allora Allora Succederà una cosa Forse un po' buffa Eh Ho i personaggi evocati qua Io ti lascio le braccia a terra Potrebbero incazzarsi un po' Potrebbero Spero di no Sono i tuoi personaggi evocati Nel senso gli NPC Sì Cuculus Sonic Aspetta dove sei tu Ah minchia ma dove cavolo sei spawnato So come arrivare Ok Però aspetta no Ci vuole una vita da qua Aspetta sì Madonna dove sei Aspetta eh No 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 Allora vai Allora Vai verso il cavaliere nero Esatto Vai verso il cavaliere nero Sali le scale Ti butti di sotto E raggiungi facilmente questo fallo Ok Ti vengo incontro Ti vengo incontro Ci incrociamo metà strada Vedrai Oh no Zorig di nuovo Dicono in chat Hai evocato Zorig Sei un maledetto traditore Eh beh è troppo raro evocarlo Perché di solito in Dark Souls 3 Giustamente da giocatori come noi Non lo facciamo mai No Anzi Cuculus è una chicca Che ottiene Perché mi attacca Perché mi attacca Perché non sei rosso Sei viola Ma sono proprio uno stronzo Vai vai Sprinta sprinta Oh oh Sprinta 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 No Ma quanta Ma con quale Ma con quale Incredibile Togliti Togliti la covenant Rimetti il segno rosso Così non è viola Così sei rosso Ma con quale combo Verticale Ti ha preso Ma ho perso 10k No 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 Non credo Eh si Ah perché si va bene Non ti preoccupare Non ti preoccupare No worries Però questa cosa È Minchia Gli spiriti folli Sono folli per davvero Non metterti nient'altro Non metterti rosaria Non fare pazzia Ok Metti il segno rosso No worries Ma come Fermo Ok Come ha fatto A farti una combo Aerea Praticamente ha fatto Sora No ma A parte quello Come ha fatto Tutto Cioè nel senso Perché sono arrivato lì Perché i spiriti folli Sono un po' pazzi Ecco Sono pazzi Vanno dove vogliono Allora ti evoco Poi abbiamo quindi Dunque Allora braci Un pochino Poi Animella speciale Mezzana Che altro per quante volte Siamo morti con le invasioni Mettermi 20 braci Facciamo 10 Più Per la chadness Due anime diverse Ok Dovresti Ah vedo che Oh no l'ho usato Sono fanculo Eh Ma quindi ragazzi In Dark Souls 3 Il segno rosso Ma veramente Non sono solo le invasioni Vado da Paces Oh mamma mia Vabbè Allora Qui avevi Vabbè Poi ti passerò Le anime e le cose Non preoccuparti Amico mio Affranto Quanto costa una brush Sapete che forse Non c'ho sordi No Ah poi è vero Io ogni volta faccio Ragazzi sono le due È vero io faccio sempre Il fight club E la gente non mi appare davanti È vero È vero è vero Però quello non so appare vicino Posso usare una Un'anima di un boss No Aspetta Posso vendere Posso vendere gli oggetti Puoi vendere gli oggetti Aspetta Dimmi Non hai Dimmi tu Compra il segno bianco E vieni qui Quanto costa il segno bianco Ma costerà mille Non lo so Costa niente Sono povero Subbatevi al canale Raga Non ce la faccio Purtroppo Ho bisogno di sostentamento Allora Chi ce l'hai innanzitutto Vendi la polvere riparante Immediatamente Se ne hai No 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 Ce l'hai Vendi il culo Esatto Andiamo Ragazzi Dovete completamente Abbracciare il fatto Che io Ora sono rincoglionito Ma anche io ragazzi Sono tantissimo Cioè Abbiate Godetevi La possibilità di vedere Esimi Content Creators Al limite Delle loro capacità Intellettive Esatto Esatto Cioè noi Oscilliamo tra Oh mamma mia Sti ragazzi bravi Collegano tutto E Ma perché Spare lontano Il segno rosso Da un mese Di pvp Dove cazzo Sei andato In quale falo sei Bomba abbandonata Sto diventando vuoto Sto diventando vuoto Esatto Allora Non vedo l'ora di Alzheimer Forza Oh 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 Elden Ring Ok Questa live è oro Sono d'accordo Sì Ok Adesso sicuramente Appariremo Perché con questa password È fantastica È velocissimo Ok Ti prego Sto avendo le convulsioni Sto avendo le convulsioni Sto avendo le convulsioni Sto avendo la bocca Ti prego Ti prego Ho bisogno delle braccia Ti prego Ti prego Ti prego Mi sento male Non sono più in me Allora Ok 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 Perfetto Raccogli pure Ok Tutto lì Tutto lì Ok Perfetto Mi hanno andato via Sì Mi hai espulso Come un arbitro arrabbiato Esattamente Via Adesso Hai le anime Anche della Chadness di prima Sì sì Però me le sono Cioè le ho usate Perché è giusto Che io le usi È giusto Che tu abbia il rischio Di perdere tutto È capito Perché se le avessi avute Le avrei potute perdere E ora Cuculo Cazzo sto andando Ah Sì Ah è vero Mi sono dimenticato Alla prossima Avete ragione Avete ragione L'oggetto speciale Che dovevo donargli È vero È vero Se Se non vince Glielo passo Cosa C'era quell'oggetto Della lava Che dovevo passarti E vale la pena Che tu lo veda stasera Proviamoci Ho fatto un cambino Let's go No Non faccio abbastanza Dan Contro ordine Aia Però lo hai avvelenato Eh sì Questo sì Però mi sto preoccupando Troppo Per lei Vero Però ha una Estos Lei Quindi Mi taglio la coda Come un drago Il veleno Oddio Non se lo può togliere Vero Dura Un tot Ok Che sta a fa' Non mi va interrotto Vabbè Ah ok No no Cuculus Ti prego No dai dai Cuculus Dai Zia Aia Credo abbia usato La sua Estos E io devo usare La mia Non voglio morire Ok 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 va bene Voglio far Faccio come Gwyn Faccio Dai Cuculus Non crepati Prego Usa in culo Vai Con fulmini Non è mica morta No ok Ah no ma l'ha usata adesso La Estos Dai Dai Oddio Non ci posso credere Stavo per morire Cuculus Ancora viva Sì Bella lì Crepa Bastardo No no Stai buono Avevo smesso di guardare Gli HP del boss I miei Perché Fortissima Volevo farvi vedere La classica animazione Si fiamma Mi sono distratto Vorrei leggere Quest'anima Prima di chiudere Stiva Oh L'hai sconfitto Cavolo Figo Ok Allora Prima Di leggere L'anima Tu hai La mia life In piccolo Giusto La mia partita Ok Ti faccio vedere una cosa Guardala un secondo Full screen Assolutamente Allora C'è un dettaglio Che è abbastanza importante Della boss fight Non pensavo Wow Sono proprio contento L'hai battuto subito Ottimo Ma mi sono messo Buff del fulmine Aspetta eh Sono mortissimo Allora È la live giusta Per morire No no Sì 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 Il fatto è che Volevo presentarti Questo dettaglio Ossia Che Possiamo parlare Un pochino Del re demone Prima che tu Legga l'anima Allora Magari mi tolgo Lo scudo pesante Che stavo cercando Era un demone Più antropomorfo Degli altri Aveva una faccia D'anziano Quindi era Un demone Diverso dagli altri Gli altri sono A forma di animali Sono un toro Una capra Dei rettili Amfibi Invece lui è proprio È proprio Sembra un Mezzo essere umano Però appunto Come dicevi tu Non si è mai parlato Di demonificazione Delle persone No 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 Però guardalo Proprio la barba Sì sì ma Ebbene E tra l'altro Parlando di essere un re Significa che ha Una gerarchia Certo Mio dio Però l'abbiamo detto prima Lo abbiamo detto prima Che la civiltà Era Cioè Quella dei demoni Era appunto una civiltà Una società Quindi era assolutamente Possibile E plausibile Visto che avevano Un esercito Che ci fosse anche un re Mi chiedo Perché abbia Delle sembianze Antropomorfe Forse è un re Divenuto tale In realtà C'è la demonificazione Beh sì Antropomorfo È un parolone Già meglio È antropomorfo Ma non umano Comunque Assomiglia un po' Ai demoni Che hai trovato Per esempio All'inserimento Al demone Che hai trovato All'inserimento Solo molto più Un po' regamale Esatto Alla barba Dicevo O è il marito Di Isalith Visto che La strega Ha dei figli Delle figlie Quindi magari È il marito Oppure è diventato No 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 Fermo Oddio Scusa Non volevo ucciderlo Ok perché non vuoi ucciderlo Devo guardare qualcosa Sì Mamma mia Allora Praticamente Forse Non basta Davvero Non ci credo Aspetta Gli toco un paio Di cazzotti Mazzà Demone Dovresti essere Un pochino più E dai Su Magari No No Cazzo Mancava un colpo Allora Magari Putiamolo giù Di vita Ancora di più Minchia però Usano l'arco Usano l'arco Per farlo arrivare Gli HP giuste Questo era Poteva essere Il re di Isalith Sì O meglio Prima che La culla del caos Esplodesse Questo non è Questo non è Tanto il re di Isalith Quanto il re dei demoni È una cosa Leggermente diversa Hai ragione E allora è stato Eletto tale Però non mi spiego Perché abbia la barba Gli altri no No beh Allora È stato Eletto tale Da Molto Tempo E lui Praticamente Effettivamente è diverso Perché probabilmente Ha avuto anche una sorta Di origine diversa Non sapremo mai quale Però Ah ok Però Ha anche un po' Di design dietro Ossia lui è il re Dei demoni Quindi No Ma Lui il re dei demoni Quindi è quello Che ha chiesto Probabilmente Alle legioni In DS1 Di salire E ha ordinato La risalita Ok Sono infattolo No Ok Senza scudo Ed è vecchio Ed è vecchio Esatto Sì sì ragazzi Ed è vecchio Allora Ammazza Devo dire la realtà Che mi aspettavo Che quegli HP Bastassero Non c'era anche il centopiedi Che era diventato No il primo demonenato Non può essere ragazzi Il primo demonenato È uno stregone L'abbiamo incontrato In Dark Souls 1 Se non mi ricordo male Lui Eh sì Il fire sage demon Sì Però vedi Lotta proprio come un A molti attacchi simili A un demone vagante Sì beh Usa un gigantesco martello Ha comunque Quel tipo di Di finestre Però Usa anche Ovviamente Il fuoco In maniera Molto antica Non si attenta Non ucciderlo Soprattutto A questo punto Quando gli mancano Pochi HP Stai tranquillino Non fare Non fare cose Però più pericolose Ecco stai calmo Stai calmo Stai calmo adesso Guarda guarda Non ce la fa Ok Oh mio dio Si è spento Ecco qua Ah si è spento Ecco qua Guarda Poverino Si sta spegnendo Anche lui Questo E' un sistema Molto simile A quello di Sif Si Lui Raggiunge un livello Nel quale Non riesce più a combattere Vedi E' completamente E rimane così O riesce ad altarsi No no Rimane così E infatti Riesce quasi A farti provare Pietà per un demone Adesso puoi effettivamente Dove aver visto questo Leggere l'anima E poi quando lo ammazzi Si secca del tutto Io ragazzi L'ho dovuto zergare Perché avevo Il terrore Che Come si chiama lei Cuculus Sì Che Cuculus Morisse Ora Anima del vecchio Oh si si Leggi pure Ma poi Fai un giro nell'arena Perché c'è una chicca estetica Anima del vecchio re demone Un'anima corrotta Intrisa di potere Usala per acquisire Numerose anime O trasferiscila Per estrarne la vera forza Il vecchio re demone Ora è ridotto A un mucchio di cenere Ma è l'ultimo testimone Vivente Del caos Di Isalith Era l'ultimo demone Rimasto? Allora Dopo che abbiamo ucciso Quelli Per arrivare a lui Diciamo che Hai colto nel segno E c'è una lettura Ancora più triste Perché Il re Quest'ultimo re È stato Un barlume Della fiamma Del caos Che hai spento Definitivamente L'ultimo Probabilmente Una brace Che ormai Ha condannato L'ultima speranza Per i demoni Di ricostruire una civiltà Certo Via Adesso Io l'ho spenta per sempre Ora tu l'hai spenta per sempre P ed F L'hanno spenta per sempre Adesso i demoni Sono definitivamente Spacciati Estinti Perché senza la culla Del caos Esatto Non possono più crearsi Non possono più riprodursi No È dai tempi di Lord Run Che non lo fanno più E hanno resistito Fino ad ora Diventando quasi pietra Ma ormai è fatta Allora Da qui sono entrato Vero? Sì Qui abbiamo vari demoni Esatto Ce n'è uno in particolare Che dovresti trovare Ci penso Quindi abbiamo Demoni Demoni vaganti Demoni vaganti Demoni capra Demoni toro Eccolo qua Ok Vagante Capra Toro E si ripetono E si ripetono Ma ce ne sarà qualcuno Speciale Continua così Stendendo bene Esplora Continua in questa direzione Continua in quella direzione di prima Cioè in questa massa qui? No Ma nella direzione sì Cammina avanti Continua Alza un po' lo sguardo Un po' a sinistra Alza Merda Il boss di Dark Souls 1 Sì Cos'era? Il fratello? Era il fratello Sì Sì Delle streghe Era No scusa Quello era Seaseless Discharge Questo è l'anello Del fratello È l'anello Giusto Che ha creato lui Sì Corretto Corretto Il boss che Tra l'altro mi ha perma Ucciso 40 volte In New Game Plus Ricordo Che non veniva Nella piattaforma giusta Grazie ai ragazzi I player inside the ride È proprio lui In realtà sono più di uno Vedo Uno Due Eh beh perché Un po' come potevi Tagliargli gli arti E diventavano demoni A loro volta No? Lui si è diviso Adesso 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 Una cosa che Possiamo fare anche La prossima volta Si è sbloccata Una chicca Speciale Anzi Ma in realtà È facilissimo Si torna al falò Questo è decisamente Un ottimo finale Ahà Eccomi E Teletrasportati All'insediamento Dei non morti Ai piedi Della rupe Vado Ai piedi Della rupe Allora Intanto Se riesco Ok ricordo Dov'è Aspetta Ti metto un secondo Il segno rosso Cerca di Tirarmi su Sì perché Il bianco Con i boss morti Non posso Ah giusto Adesso se Appare Se ha la benevolenza Di apparire Dovrebbe essere Proprio Posso vero ragazzi Con il segno rosso Sì Certo Eccolo Ok Sì Abbiamo fatto Di nuovo Fight Club per mesi È ovvio Ok Adesso Arriva un secondo da te Vediamo Dovrei apparire vicino Coolus Per me è Coolus Ragazzi Ragazzi Credo che se facessimo un duello Adesso mi tirerei solo la spada Nel petto Da quanto sono rincoglionito Come scusa Come hai detto Mi hanno detto Duellino Duellino Sì Vabbè Mi curerei La spada nel petto E basta Tipo Sarei in grado Di fare questo Siamo molto più di là Che diciamo L'ombra Siamo l'ombra Di noi stessi Esatto Però in realtà Questo significa Che il boss Era abbastanza easy Con l'evocazione No Il re Il re In realtà Anche senza Perché Era Comunque Facciata Sì 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 No Lui E va beh È uno sciocchino È uno sciocchino Esatto È una scemenza Nella lava Oddio scusa Scusa Minchia Non ti ho preso Sono di morte Di Solid Snake Allora Questo è assolutamente Canonico Perché io da tank Sono andato A raccoglierti Guarda Al centro Della lava C'era questo Grazie P Talismano Dei capelli bianchi È un talismano Della Fair Lady Talismano Creato a partire Da un ciuffo Di capelli bianchi I capelli Appartenevano A essi e lei A una delle streghe Del caos Madri della piromanzia In questa forma Essi permettono Di lanciare Miracoli e piromanzie Combustione Avvolge la mano Con una potente fiamma È una piromanzia Elementare E per questo Risulta assai efficace Funziona In entrambe le mani Credo Che sono i capelli Della Fair Lady E non solo sono i capelli Ovviamente Di Quelan Di qualcuno Di molto vicino Al caos Ma Ti permette di castare Miracoli E piromanzia In una sola botta Insomma Con un solo equip E in Dark Souls 3 Piccolo trivia Non esiste Un altro oggetto No Non esiste la combustione Come piromanzia Esiste solo la versione Migliorata È quella milì È quella milì Con questo Con questo La sblocchi Ma A questo punto Ti dico Apri Lo sprite Di nuovo Ti strappa Un sorriso Che ti rimarrà Nonostante la stanchezza Sono qui Questa ti piacerà Tanto Guarda Sto per dirti Una cosa Che ti farà pensare Veramente A ciò che è Dark Souls Nei dettagli Sono pronto Ciò che tiene i capelli Insieme È l'anello Della strega Di Dark Souls 1 Ah Che è proprio lui Il rosso Il tuo Tra l'altro Oggetto Tanto desiderato Oggetto per il quale Accedere Per il quale Grazie al quale È possibile accedere Se non sbaglio Al suo dialogo Perché altrimenti Non conosci la lingua Sì Capito Ma quindi in teoria Gliel'ha dato Sabacu II o Firenze Questo Assolutamente possibile Sì Assolutamente sì Eh Eh Queste sono chicche Che in un oggetto Piccolo Sprite Nascosto Ma ha messo bene in vista Attraverso un po' di attenzione Ti mostra Che cos'è Un autore Che cos'è Il tocco Di mettere qualcosa Sì Questa è una cosa Completamente inutile Ma estremamente rewarding Per chi ha giocato E lo ha fatto con attenzione Cioè non serve a niente Esatto Però ti fa dire Ah cavolo Quando l'autore ha fatto Quell'oggetto Non l'ha fatto E basta Ci ha pensato E ha detto E adesso faccio la chicchetta Figata Esci da qui Esco Esci Dai a destra Sali Sui tetti Con delicatezza Bravo Continua così Vai su Torna dove hai incontrato Cornix È un oggetto Che non avevo preso Aspetta Sì Questa è la partisan No No Dopo Non lo prenderò Dai intanto Una lancia Ok Devo salire ancora di più Mi pare Bravo Eh ragazzi Dai Cioè nel senso Siete livello 1 Rompete i coglioni Dai Siete Dai Sì bravi Ok Continua ci sei C'è una gabbia Oh Oh Perché Diciamo che Non Ma Cornix non c'è più È morto Probabilmente no E allora perché c'è la roba di Cornix qui No ma probabilmente sì Nel senso non c'è più Non c'è più Gli ho fatto Un po' come Gran cappello Gli ho dato tutti i tomi e ha perso La voglia di Vivere ancora Eh Guarda ti dirò Ti dirò Ti dirò Su questo Per ora Non Mi sbilancio E ne riparleremo in futuro Perché questo non è Cornix Ok Ok È vestito come Cornix Ma in realtà è Proprio Cuculus Come scusa? È quello che hai evocato Eh sì ma Come fai? Cioè da cosa lo evinci che lei? Che quando torni a fare Nick Shrine Troverai Cornix Cornix Ah ok 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 Però c'è un dettaglio C'è un dettaglio Il modo Il motivo Per il quale trovi questi oggetti Guarda su questo mi sbilancio Poi ne riparleremo Più in là E farò una verifica folle Ma su questo sono abbastanza Sicuro Questi reward segreti Che sblocchi finendo delle quest Nascoste come Portare i Tomi A Cornifex E poi evocare Cuculus Perché Ce ne sono diverse Sparse nel mondo di gioco E secondo me Solo reward di gameplay Non hanno senso Cioè nel senso che In questo caso ti sbilanci E dici E qui punto E qui punto Ma mi sbilancio dicendoti Non è ciccia È semplicemente Semplicemente il Che bello è finito la quest Non mi fanno impazzire Perché in realtà Questo corpo Avrebbe motivo Non doveva parire qui Avrebbe sì Avrebbe motivo Di trovarsi qui Solo in situazioni Più complesse Che non si verificano Quindi Questi sono piccoli premi Che purtroppo Aiutano Molte persone A confondere La sottilla linea rossa Tra solo gameplay E gameplay con lore In questo caso È solo gameplay Mi sbilancio in questo modo Guarda Sì sì Perché ce ne sono diverse E alcune Sono Diciamo Ma chi mi prendi per il culo Cioè Altre vedrai Non avranno senso Però Pensa In tutta questa stupenda live Questo finale Ti fa capire Che stiamo arrivando Comunque alla fine Di certi percorsi Eh sì Eh sì è Praticamente adesso Dobbiamo andare Veramente alla valle boreale Adesso dobbiamo andare Veramente alla valle boreale Perché Isalit è finita tutta Finita tutta Con grande completismo E anche Il ritrovamento Dei cadaveri E del Oh di tutto Del mistero svelato ormai Dell'intero Laguardente Comunque Vorrei leggere un attimo Perché ci sono cose interessanti Tenuta di Cornix Piromante della grande palude Era ad uso Nella grande palude Decorare il corpo Con elementi naturali Cornix aveva una predilezione Per le piume di corvo E fin qui ok Ora però Il narratore si sbilancia E dice una cosa interessante Si dice che un tempo I corvi fossero messaggeri Del vingolo E guidassero i non morti Verso la terra Degli antichi dei E il fatto che lui dice Dica si dice Eh sì Significa che il narratore È talmente tanto lontano Da Dark Souls 1 Sì Da Metterlo come ipotesi Si dice che un tempo I corvi fossero messaggeri Del vincolo E guidassero i non morti Verso la terra Degli antichi dei È vero Non è una diceria Noi sappiamo che sia vero E tra l'altro Citazione 2 Nella sottana Questa lunga tunica È stata creata Imitazione di quella Delle streghe progenitrici Della piromanzia Quindi questa tunica È ispirata a quell'ana In particolare Bravissimo Tutte le streghe di Isalit Alle figlie della strega di Isalit Aveva tre oggetti Se non mi sbaglio Ma non ho visto il termine Penso che ci fosse l'elmo Eminflex Dov'è? Benda del vecchio saggio? No perché questo ce l'avevamo già No credo che sia Una versione alternativa Ah no la frusta La frusta Ok ok Grazie ragazzi La frusta È vero È vero La frusta E che frusta Eccola qua a macchie Una frusta Screziata Di macchie velenose Amata da alcuni Piromanti Della grande palude Come suggerito dal suo aspetto Tossio Questa è la città infame Questa frusta Velena i nemici Portandoli a una morte Lenta e inevitabile Impatto Colpisci a sinistra Per superare lo scudo E ridurre temporaneamente Il recupero dell'energia Quindi un nerf Il timore della schiavitù C'è un debuff Giace dormiente Nel cuore di tutti gli uomini Questa è molto Città infame Sì Frusta a macchie Città infame Non credo fosse di qualche PG Nello specifico Se è di qualche PG No 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 Tranquillo Sono completamente andato di testa Ma Le cose grosse Non le ricordo Anche io sono fottuto Oggi sono particolarmente fottuto Ma sai perché? Perché abbiamo speculato tanto No sì Abbiamo usato la testa tanto Guarda Una cosa di cui Nella prossima settimana Devi prendere atto Non è Negoziabile Questa cosa Ok La decido E Dico Ragazzi Non privare della Valle Boreale No No Non lo farò Ok Di una cosa ti priverò Per almeno tutta la prossima settimana Quindi otto ore Potenzialmente Sette o otto ore Ragazzi dovete accettare questo dettaglio Solo emoticon Non dico solo emoticon Lasciali pure parlare Non guardo la chat Ma tu devi rimuoverla al cento per cento Non voglio Non voglio Ti voglio Sì sono mesi Non me l'avevi Esatto C'è anche che mi avevi detto la prossima puntata Mi hai detto a un certo punto te la farò togliere Esatto Quindi ti dico Non togliamo la community Alla community per otto ore Loro devono parlare Divertirsi Leggere quello che fanno gli altri I loro amici I colleghi A seconda Colleghi di chat Però Tu non devi neanche Tu non devi proprio Devi togliertela dalla vista Per le prossime due live Sì ovviamente Aspetta aspetta Perché i modellatori giustamente Li capisco Anticipo Non potete comunque spoilerare Perché ci sono persone in blind Che potrebbero leggere No no Intendo dire Non vi faccio stare dieci ore A fare emoji È una sciocchezza Ma non è che dovete spoilerare Solo perché non vi legge Francesco Ragazzi Ora ti dico Esisterà un'altra volta Questa situazione E poi basta Ok no no Mi fido ciecamente Lo sai Mi fido ciecamente Lo sai Capirai Capirai Ma guarda Leggo che la chat è d'accordo Quindi si vede che c'è qualcosa Di davvero importante Che non Sono molto contento Sono molto contento Che la chat sia d'accordo Resistete ragazzi Sappiate comunque Che poi torna Ma in queste due prossime live Non si può Non si può Poggers Maestro Grazie mille Live meravigliosa E ormai non facciamo Meno di quattro ore Anche sto giro Quattro ore e mezzo Bella roba Bella roba Stiamo trottando E non trottando Allo stesso tempo Nel senso che stiamo Andando avanti Meno Ma andiamo avanti Meno Perché davvero In quattro ore e mezzo Secondo me Credetemi Due sono di noi Che siamo fermi E parliamo Stavo dicendo questo In realtà Trottiamo Al doppio Perché trottiamo Facendo enorme densità Di contenuto speculativo Che va a un punto Ogni volta E Sono già Due live O più Che ogni Ogni episodio Chiamiamolo così È un'area completa Tutta Carthus E poi tutto È vero È vero È vero Comunque Poi ragazzi Sono sempre le cellengine Che a me fanno impazzire Mettono proprio il pepe Il Chiamiamo di fare Questo boss Senza curare Ma immagino che tanti Dei ragazzi Che ti seguono Mi seguono In realtà Ci seguono Quindi lo sanno Lo sanno Che giocatori siamo È nel nostro pedigree È nel nostro animo Per me Fondamentale Anche quel den ring Lo faremo ragazzi Almeno io sicuramente Lo farò Perché poi Michele Lo conosco meno Da questo punto di vista Sono l'unico in blind Ma immagino Qualcuno Nella chat di Saido Può fare un cenno A Francesco Di cosa sono io Ecco Allora Probabilmente Finiremo il den ring Per davvero Tipo dopo nove mesi Perché Ci incaponiamo Che dobbiamo per forza Fare Le cazzate nostre Andremo avanti All'infinito Sì io sono quello Che a volte Cioè Qui ho la chat che dice Madonna lascia stare Saido Esatto Perché A volte Faccio litigare Le persone per ore Perché La gente dice Ma cos'è questo contenuto di merda E altri dicono Questo è oro No cioè Perché Dico no io faccio questo Ma io faccio questo Ho deciso Anche perché poi Ovviamente in realtà Scherzi a parte È un modo di approfondire Combat system Game design Arena design Boss design Ragazzi è ciccia vera È sempre ciccia vera Oltre a essere una componente Dell'altro game Hanno annunciato questo network test Eh esatto Esatto Quindi Ora I network test Da esperienza Souls Che tu non hai Tendono ad essere Io li ho sempre un po' evitati I ragazzi lo sanno A me piace avere un primo contatto Il più intimo possibile Il network test Tende a non essere molto intimo Perché è uno stress test Dei server E quindi Di solito È pvp E Tentativo di buttare giù Tutto quello che può funzionare Nei loro uffici Non è il Il press tour In cui giochi una parte O una demo vera e propria Però Però Almeno Almeno c'è Esatto Non è qualcosa che Escluderò ed escluderemo E lì Anche si potrà decisamente Fare le nostre provine Sicuramente Sì 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 A voglia Ragazzi Grazie mille Di essere stati con noi Grazie al maestro Rendiamo Diego Assolutamente E tra l'altro Il Reduce da una collaborazione Su YouTube Per chi ha visto il video Dedicato a Mewtwo Quindi tanta roba E maestro Grazie mille Ti auguro una buonanotte Buonanotte a presto Ciao caro Ciao Accidenti Che stanchezza Ho perso capacità cognitive Verso la fine Ma sono felice Che nonostante tutto Ogni cosa è andata a posto Ogni cosa è andata a posto Quindi perdonatemi Il gameplay amebico Però Ne è valsa la pena Ne è valsa la pena Sono giornate in cui Sono giornate in cui Ho la testa che scoppia Che scoppia Però 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 Intanto Adesso comincia Il refill Siete stati Magnifici Mi avete fatto tantissimi doni Stanotte Grazie per le sub donate Ragazzi Grazie di tutto Siete meravigliosi Perdonate la stanchezza Ma oggi Per chi non lo sapesse O che sta recuperando Ho avuto delle live extra Anche molto strane Ho fatto Una diretta Su steam Ho Fatto Un just chatting In cui stavo già dormendo Non perché In realtà Io abbia accettato Di portare un contenuto Mediocre Ma perché In questo periodo Sono particolarmente Stanco Perché tutte le ore Precedenti Sono full immersion Sullo spirito Dell'influencer Quindi Poteva andare Meglio Ma anche molto peggio Per la prossima volta I refill Saremo pronti Ma Vi dico Dopo Che Avremo La quest Henry Yuria Come la gestirai Farò fare a lui Una scelta Non faremo parlare Ovviamente Saidonia Con Yuria Dopo Sullivan Non deve sentire Quel dialogo Non esiste È una cosa Completamente antitetica Alla Blind Run Non accade Cioè Sì Statisticamente Sarà accaduto Però Siamo seri E Gli faremo fare Una scelta Alla fine Può decidere Di ripudiare Il matrimonio Però allo stesso tempo Un pochino Lo inviterò A farlo Perché merita Quel finale Lui Merita Quel finale Perché è importante Allora Se fai il matrimonio Spiegarvi cosa sia Sarà una delle cose Più anima oscura Tre che esistano Per il resto Signore Dopo Sullivan Cosa dice Dopo Salle Che Henry Lo aspetta Da Norlondo Anzi Anzi Dice anche qualcosa Di più preciso Anzi Parla proprio Parla della tomba Di Gwyn Fondamentalmente Quindi non è proprio Il caso E Non si fa Ragazzi Però Però Ci sarà Molto Di cui Parlare Dice Dice Non la uccideremo ora O forse si Parleremo dell'extra un'altra volta Io non sono fullscreen Sto giocando dalla schermata della live adesso Ho anche la lag Sbaglio? Cosa dice se ci uccide? Se ci uccide Se ci uccide scompare? No Ok fate ammazzarsi Non mi ricordo cosa dice quando ci uccide Scompare? Alimenteremo il fuoco Alimenteremo il fuoco Sta tranquillissima lei Perth I have failed Dopo sullivan Faremo il prossimo extra E risponderò a tutte le vostre domande Tutte le vostre domande Tutte Alla prossima ragazzi Il dove lo farete? Telegram E farò anche un'altra storia su Instagram Grazie a tutte ragazzi Grazie a tutti Fight